Direi che possiamo cominciare, buongiorno a tutti, sia voi che siete in presenza, sia a coloro che ci seguono in streaming da casa, sono piuttosto numerosi. Io passerei subito la parola al professor Giovanni Denaro che è qui in rappresentanza del Dipartimento di Informatica che è il Dipartimento che gestisce questi tre corsi di studio Informatica, TTC e Data Science che oggi vi presentiamo. Grazie. Io vi saluto a nome del Dipartimento di cui sono Vice Direttore e prendo giusto due minuti per cominciare la giornata, così dico due cose. Parliamo di lauree magistrali, quindi secondo me il primo punto che mi piace sottolineare è che quello su cui voi vi ponete già adesso dopo la laurea triennale è un mercato del lavoro che fortunatamente per tutti noi è molto florido, ma proprio perché è florido è un mercato del lavoro in cui ottime opportunità per i laureati triennali, però le competenze, le specializzazioni sono più richieste. Quindi è un mercato del lavoro in cui ci sono tantissime opportunità, opportunità che sono nazionali ma anche internazionali, europee, per esempio diciamo noi qui dalla Lombardia siamo molto vicini a tanti paesi europei dove c'è un mercato del lavoro altrettanto florido e secondo me la laurea magistrale mi dà una marcia in più per poter cogliere veramente a pieno le grandi opportunità che ci sono nel mercato del lavoro. Quindi da questo punto di vista il primo punto che volevo sottolineare è l'importanza di ottenere questo titolo di studio più specializzato con la laurea magistrale che vi piace di più. La seconda cosa poi che mi piace dire, diciamo così per dare anche una questione che non è soltanto opportunistica legata all'opportunità del lavoro, è che voi con la laurea magistrale investite anche su voi stessi, sulla vostra crescita, che vi trovate in un ambiente che dopo diciamo la laurea triennale che avete raggiunto o state per raggiungere, è un ambiente che ormai è diventato casa vostra che conoscete bene, in cui non vi muovete più secondo me con lo stesso stress con cui vi muovevate quando siete arrivati al primo anno ed era tutto nuovo, tutto difficile. Quindi questi due anni di investimento sullo studio sono due anni in cui riuscite a tenere lo stress sotto controllo e potete investire veramente sull'approfondimento delle cose che vi piacciono, collaborando con colleghi che condividono i vostri interessi, i vostri compagni, ma anche con professori che condividono i vostri interessi e che hanno voglia di condividere la conoscenza e l'esperienza. Quindi secondo me sono due anni anche molto belli per chi li può affrontare dal punto di vista della crescita professionale e delle conoscenze. Quindi vi aura anche che siano belli da questo punto di vista. Ecco, io chiudo qua perché voglio lasciare la parola ai colleghi che gestiscono la giornata, vi saluto e in bocca al lupo a tutti. Arrivederci. Grazie Giovanni. Adesso io do la parola alla professoressa Arcelli che ci presenta il corso di laurea magistrale in informatica. Volevo ricordare una piccola cosa che il nostro dipartimento è stato selezionato come dipartimento di eccellenza dal Ministero dell'Università un paio d'anni fa. Prego. Bene, buongiorno. Allora immagino che gli studenti presenti, anche quelli da remoto, quindi siano interessati a investire in un futuro percorso di studi proprio per far crescere le proprie professionalità e competenze per potersi affacciare verso nuove e più interessanti opportunità di lavoro. Allora, in questa presentazione io cercherò di rispondere a queste domande e in particolare andrò nei dettagli nella descrizione della laurea magistrale in informatica in Bicocca. Allora, qualche dato. Qua abbiamo cosa fanno gli studenti dopo una laurea triennale. Come vediamo, molti studenti dopo una laurea triennale si iscrivono a una laurea magistrale. Non lavorano e si iscrivono a una laurea magistrale, in rosso. Ci sono studenti che invece lavorano e si iscrivono a una laurea magistrale. Anche questo è uno scenario possibile, massimo rispetto per chi deve o vuole iniziare a lavorare. Quindi ci sono anche diversi studenti, magari impiegheranno più tempo per laurearsi, ma non hanno abbandonato, quindi vogliono proseguire gli studi, quindi vogliono investire in un successivo percorso di studi. E le aziende su questo anche danno la possibilità, io ho studenti nel corso che tengo la seconda laurea magistrale, che lavorano e quindi le aziende danno anche la possibilità agli studenti di seguire alcune lezioni e ovviamente per sostenere gli esami. Quindi c'è disponibilità in generale delle aziende in questa direzione. E poi purtroppo ci sono anche molti studenti che si fermano, quello che ovviamente non dovete fare voi. Cosa succede alla laurea magistrale? Dopo la laurea magistrale la maggior parte ovviamente degli studenti lavorano, trovano lo lavoro, c'è una piccolissima percentuale che non lavorano e non cercano, probabilmente sono studenti che non hanno ancora deciso se magari lavorare in Italia o all'estero o magari proseguire con un dottorato di ricerca, che è un altro percorso che dovete e che potete tenere in considerazione. Qualche altro dato? Questi sono dei dati che provengono da Alma Laura. Alma Laura è un consorzio interuniversitario di tutte o quasi tutte, meglio, le università italiane. Devo ammettere che noi abbiamo anche altri canali attraverso i quali riceviamo dati sull'occupazione e attraverso questi altri canali i dati sono migliori rispetto a questi, ad esempio per il dato della disoccupazione è zero. Questi sono dati, gli ultimi che riceviamo sono del 2022 sul 2021, per cui sono dati anche non molto recenti. Per cui anche con i contatti che noi abbiamo con le aziende, anche con gli incontri con le parti sociali e con le aziende, abbiamo sempre ricevuto delle aziende la richiesta di un maggior numero di laureati. Secondo le aziende noi lauriamo un numero troppo basso di studenti in relazione alle offerte di lavoro che ci sono. Voglio soffermarvi solo su due aspetti. Il guadagno, come vedete, il guadagno, anche se questi dati magari sono inferiori rispetto a quelli attuali, il guadagno fra Laura magistrale e Laura triennale, c'è una bella differenza, quindi da 1400 circa a 1812. E poi l'altro aspetto interessante è l'utilizzo delle competenze. Quindi con la Laura magistrale come percentuale si acquisiscono le competenze acquisite, si utilizzano per il 74,4% e molto meno per la Laura triennale. Quindi c'è sicuramente una maggiore soddisfazione da parte di studenti di tutto quello di utilizzare poi nel lavoro tutto quello che hanno acquisito durante il percorso di studi. Per quanto riguarda sempre, parliamo di occupazione, vi ho indicato in questa slide dei dati che sono stati pubblicati su un articolo del Corriere della Sera del gennaio 2024. Questi dati sono stati raccolti da una società, Frank Recruitment Group, che si occupa di selezionare profili nell'ambito Information Technology. Secondo questo articolo, che è stato pubblicato appunto a gennaio, gli ingegneri del software e gli ingegneri cloud sono quelli introvabili, quindi mancano i candidati, quindi dai 100.000 assunzioni in 5 anni, ma appunto mancano i candidati. E poi, secondo sempre questa azienda, hanno sottolineato che le aziende sono le ricerche soprattutto di cloud engineer, software engineer, solution architect e queste altre figure che sono elencate. Su questo aspetto quindi c'è grande ricerca, quindi questo l'ho solo sottolineato, che a differenza della slide di prima dei dati che ho fatto vedere di Alma Laura, in questa slide, secondo questo articolo appunto del 2024, c'è grandissima richiesta, quindi c'è appunto come dobbiamo laureare più studenti, dovremmo avere un maggior numero di studenti che laureiamo. Su questo aspetto poi ci sarà un intervento di Andrea Cadei, che nel direttivo di Asintel, nel consiglio direttivo di Asintel, che lui approfondirà anche proprio questo aspetto, su cosa cercano le aziende in particolare, quali profili cercano le aziende. Allora, quindi non c'è problema di disoccupazione, ricordatevi che ci sono alcune aziende che assumono solo laureati magistrali, quindi ci sono certe figure professionali che possono essere ricoperte solo da laureati magistrali e ovviamente ricoprendo ruoli che sono sicuramente più interessanti e più stimolanti. Allora, perché è una laurea magistrale in informatica? Adesso consideriamo questi tre aspetti velocemente relativi al cambiamento, alle conoscenze e alle competenze e poi andremo invece nei dettagli della nostra laurea magistrale in Bicocca. Allora, cambiamento, quindi lo studente durante il percorso di studio imparerà come far fronte a tutti i continui cambiamenti di evoluzioni e anche come potersi aggiornare in modo rapido. L'informatica è un processo in continua evoluzione, è inevitabile ed è anche questo il bello, ed è importante che quindi lo studente impari a come potersi aggiornare rapidamente e far fronte a questi cambiamenti. Pensate cambiamenti anche dell'intelligenza artificiale, quindi tutti gli strumenti che ci sono adesso a disposizione in intelligenza artificiale, questi porteranno anche cambiamenti nelle professioni. Quindi ci sarà magari una professione che scomparirà, soprattutto magari alcune professioni che magari sono ricoperte da laureati triannali attualmente, altre professioni cambieranno, nuove professioni emergeranno, e quindi è proprio attraverso, solo attraverso una laurea magistrale, che lo studente potrà far fronte a tutti questi cambiamenti, affacciarsi a queste nuove sfide che riguardano appunto anche quello che ci sarà, tutti i cambiamenti che ci saranno legati all'intelligenza artificiale, a questi strumenti. Conoscenze, allora, noi forniamo con una laurea magistrale, quindi la laurea magistrale ingegnare, noi nella nostra laurea magistrale forniamo delle solide basi metodologiche su aspetti computazionali che sono presenti traversalmente in varie aree, discipline scientifiche, matematiche, ingegneristiche, e questo vi permetterà quindi di acquisire delle capacità per applicare le varie conoscenze in vari domini, in vari ambiti, perché voi potreste trovarvi a lavorare in futuro dall'ambito medico, alla bioinformatica, sicurezza informatica, la domotica robotica, sistemi intelligenti collaborativi, oltre ovviamente a ambiti come intelligenza artificiale, data science, eccetera. Quindi l'interdisciplinarità è assolutamente fondamentale, che risponde proprio alle esigenze della ricerca più avanzata e soprattutto alle ampie richieste del mercato del lavoro. E infine l'ultima C, le competenze, quindi noi sarete in grado di analizzare problemi complessi e trovare le soluzioni migliori. Capacità di editarsi i cambiamenti, quindi produrre nuove idee originali, potete già anche iniziare attività di ricerca durante la laura magistrale, anche attraverso il lavoro fatto per la tesi di laura. Potrete assumere responsabilità in progetti e strutture anche di grandi dimensioni, e questo è difficile che possa accadere per uno studente che ha solo la laurea trennale. Questo assolutamente è un altro esempio di figura che potrà essere ricoperta solo da un laureato magistrale. Tutto questo accompagnato da una capacità di apprendimento e di studio autonomo che sarà fondamentale anche dopo gli studi proprio per comportare avanti e continuare a aggiornarvi, proprio perché, come abbiamo detto, gli aggiornamenti e le evoluzioni sono inevitabili. Allora, perché una laurea magistrale in Bicocca? Adesso andremo nei dettagli. Voglio sottolineare che sempre attraverso il consorzio di Alma Laura abbiamo rilevato i dati sulla soddisfazione degli studenti a fine del percorso di studio e la soddisfazione era decisamente alta e anche sulla richiesta ti riscriveresti in una laurea magistrale in Bicocca anche qua i valori erano alti per cui questo è un dato sicuramente positivo di soddisfazione a fine del percorso di studio da parte degli studenti. Allora, quindi abbiamo la nostra laurea magistrale in informatica sicuro forniamo le solide basi metodologiche preparazione metodologica di cui accennavo prima poi intendiamo formare professionisti che abbiano capacità di analisi e modellazione di problemi complessi progettazione di soluzioni tecnologiche innovative io vi voglio ricordare che molti insegnamenti soprattutto quelli a scelta molti o forse quasi tutti per l'esame prevedono dei progetti progetti che possono essere anche di una certa complessità anzi, sottolineo che ad esempio nel mio corso di software evolution e reverse engineering per l'esame io propongo vari progetti di varia difficoltà e spesso gli studenti anche quest'anno quasi tutti gli studenti hanno scelto i progetti più complessi quindi proprio con voglia quindi di imparare voglia di affrontare nuove sfide proprio l'ho anche chiesto a volte agli studenti avete scelto tutti i progetti più complessi ero molto contenta di questo ma proprio perché voglio approfondire questo aspetto che non conoscevo bene o che non conoscevo e con il progetto avrei acquisito le competenze per quindi proprio pronti ad affacciarsi ad affrontare nuove sfide questo è un po' meno è più difficile da trovare nei laureati triennali però succede anche per i triennali però per i studenti magistrali questo è abbastanza diffuso ed è molto sicuramente molto importante altro aspetto importante è non solo le capacità appunto le conoscenze le capacità che userete durante il percorso di studio ma sono molto importanti anche le soft skill quindi pensiero critico creatività capacità di gestire i cambiamenti e soprattutto capacità di comunicare sempre con l'incontro con le parti sociali ecco le aziende hanno rilevato un'ottima preparazione dei nostri studenti ma hanno rilevato che molti sono carenti dal punto di vista delle soft skill soprattutto per quanto riguarda saper comunicare perché quando entrarete nel mondo del lavoro dovrete comunicare quindi non solo chi gestisce un progetto ma dovrete comunicare con i colleghi eccetera eccetera quindi mi raccomando c'è il job placement che organizza degli eventi controllate gli eventi in base a quelle soft skill dove vi sentite un po' più carenti cercate di seguire degli eventi organizzati dal job placement noi li abbiamo resi obbligatori come sapete per alcuni studenti della laurea triennale prima di laurearsi devono aver seguito alcuni di questi eventi però anche per la laurea magistrale anche se non sono obbligatori mi raccomando seguiteli la nostra laurea magistrale abbiamo doppia laurea con due sedi Università di Nizza Università della Svizzera Italiana a Lugano e poi se volete chiaramente i due referenti sono la professoressa Rizzi e il professor Denaro che c'era prima molto interessante se voi non volete seguire, decidere di fare una doppia laurea molto interessante che io consiglio agli studenti è la possibilità di fare la tesi all'estero voi potete anche partecipare al programma Erasmo Studio esami e tesi anche eventualmente o solo esami però è questo più difficile è più comune farlo per la triennale anche per la triennale tre anni la magistrale sono due quindi ovviamente dovreste partecipare al primo bando che c'è l'anno prossimo a dicembre per andare il secondo anno invece il programma traineeship e questo lo consiglio secondo me per i studenti della laurea magistrale è molto molto adatto perché anche io ho sempre avuto degli studenti che sono andati in Erasmus traineeship in Europa oppure extra EU in fuori Europa per lavorare nell'ottica della tesi quindi voi sentite il professore che si occupa dell'area di maggior interesse ogni professore ha contatti all'estero anche a me appunto recentemente è venuto uno studente mi ha chiesto che contatti avevo gli ho elencato i vari contatti le tematiche eccetera e appunto ed è partito per Oslo ad esempio è con questo come esempio quindi la tesi con Erasmus traineeship la consiglio per un laureato magistrale per un periodo che è fatto all'estero sicuramente molto molto interessante molto utile e che si può fare senza nessuna complicazione alcuni sensiamenti sono erogati in inglese poi ce ne sono altri che sono erogati in inglese solo se sono presenti degli studenti stranieri adesso vi diamo un po' di informazioni più in dettaglio allora potete dal 13 maggio si può presentare la domanda di ammissione quindi dovete essere in possesso di una laurea delle classi L31 L8 scienze e tecnologie informatiche ingegneria dell'informazione per le altre classi bisogna aver acquisito 60 CFU in insegnamenti di informatica ingegneria informatica fisica matematica statistica di quel meno 24 CFU in informatica in ingegneria informatica questo per la per la missione è previsto un colloquio solo per chi ha una votazione che è minore del 95 maggiore o uguale a 95 non è previsto nessun colloquio questo colloquio non è un esame formale assolutamente un colloquio conoscitivo per verificare la vostra preparazione che sia adeguata e per verificare identificare magari possibili lacune le finestre di ammissione sono queste per gli studenti extra Europa dal 18 marzo fino al 3 maggio con colloquio a maggio il 28 maggio per tutti gli altri dal 13 maggio al 5 settembre e poi i colloqui sono il 23 e il 24 settembre e poi c'è un'altra finestra a gennaio per chi consegue il titolo alla laurea entro febbraio 2025 con colloquio il 12 febbraio quindi queste sono le finestre allora nella nostra adesso andiamo in dettagli di come è strutturata la nostra laura magistrale abbiamo degli insegnamenti obbligatori che sono tutti al primo anno tranne i laboratori di progettazione che è il secondo anno il laboratorio di progettazione anche il progetto viene scelto anche dallo studente ad esempio può essere un progetto legato a una tematica della tesi di laurea poi abbiamo 12 CFEU quindi potete scegliere due insegnamenti fra quelli affini o integrativi e poi abbiamo 24 CFEU di insegnamenti a scelta caratterizzanti e 12 a scelta libera oltre a bella tesi ovvio 33 CFEU di tesi quindi gli insegnamenti ecco quindi l'attività ecco l'attività a scelta fra quelli in ambito informatico affini e integrativi a quelli a scelta libera sono al percentuale molto alta e in più anche l'attività di tesi che anche quella è un'attività che sceglie lo studente gli insegnamenti dicevo appunto prima sono gli insegnamenti a scelta sono tanti sono più di 30 insegnamenti voi potreste anche fare 24 più 12 CFEU quindi potreste scegliere 6 CFEU fra questi quindi abbiamo un'offerta formativa assolutamente molto molto ampia noi ovviamente non andiamo in dettagli abbiamo quindi corsi da Advanced Machine Learning Artificial Intelligence ad esempio non so Foundation of Game Design che è stato che verrà erogato per la prima volta proprio l'anno prossimo che anche questo è un corso un insegnamento nuovo molto interessante anche molto attuale poi Self Adaptive System un insegnamento che verrà erogato per la prima volta invece quest'anno quest'anno accademico come anche Virtual and Aumented Reality alcuni ho sottolineato sono quelli erogati in inglese dove c'è English e poi ce ne sono altri che vengono erogati in inglese solo se se ci sono studenti stranieri sicurezza informatica eccetera allora noi questi insegnamenti cosa abbiamo fatto? li abbiamo mappati in ARRE quindi abbiamo mappato questa mappa che chiamiamo mappa concettuale degli insegnamenti è stata molto apprezzata negli anni precedenti abbiamo identificato ad esempio l'ARRE Software Engineering and Architecture Computational Life Science Theory and Foundation of Computer Science quella di Artificial Intelligence Decision System Intelligence Sensing Robotics Computer Vision eccetera e poi Web Information Systems allora noi abbiamo mappato gli insegnamenti o tutti in un'area ad esempio questi di Software Engineering molti insegnamenti sono mappati solo in questa area poi ci sono alcuni insegnamenti che sono anche mappati in due aree vediamo Data Analytics Information Retrieval ad esempio non abbiamo certi insegnamenti potrebbero essere mappati anche in tre aree diverse però non abbiamo fatto anche per un fatto di leggibilità della della mappa se voi dalla mappa cliccate sul nome dell'insegnamento vi compare il syllabus quindi potete vedere subito il programma dell'insegnamento noi non abbiamo definito dei percorsi e non intendiamo definirne quindi non vi trovate incardinate nel percorso che dovete scegliere se il percorso A o il percorso B o il percorso C come fanno altri alcuni corsi di laurea magistrale in informatica noi diamo la massima flessibilità allo studente di definire il proprio percorso di studi questo è anche molto utile anche per far fronte ai continui cambiamenti ed evoluzioni che caratterizzano l'informatica di cui parlavamo prima questo per noi è un punto di forza della nostra laurea magistrale però per facilitare la scelta degli insegnamenti da parte dello studente abbiamo definito sotto questa mappa che è disponibile su Moodle abbiamo definito dei profili o figure professionali che noi formiamo perché voi potete scegliere appunto o gli insegnamenti tutti legati a una particolare area o anche più aree ovviamente un altro quindi anche questo è utile questa mappa per la scelta degli insegnamenti da seguire però abbiamo definito dei profili sono questi e anche la slide successiva che vi farò vedere fra poco se voi cliccate sul nome del profilo ad esempio security engineer vi compaiono gli insegnamenti che noi suggeriamo non siete obbligati ad esempio nella prima figura artificial intelligence engineer o scientist noi se cliccate come ho fatto vedere sulla slide vi compaiono gli insegnamenti che noi suggeriamo per quella figura professionale questo per ogni figura professionale non per tutte indichiamo un numero così elevato di insegnamenti magari per un'altra figura professionale ne abbiamo semplicemente indicati due o tre noi non possiamo oggi andare nei dettagli di tutte le figure professionali perché ci vorrebbe solo tutta la mattina per informatica ovviamente quindi io vi consiglio se siete interessati di guardare il syllabus dei vari insegnamenti potete ovviamente questo poi non è urgentissimo ma potete sia consultare poi anche un docente responsabile di uno dei insegnamenti che sono suggerite per una determinata figura professionale e l'altro momento molto importante è che prima dell'inizio della lezione noi tutti i docenti presenteranno gli insegnamenti a scelta e anche le proprie attività di ricerca legate al laboratorio dove afferiscono i docenti quindi anche prima dell'inizio delle lezioni ci saranno queste presentazioni dei vari insegnamenti quindi avete qua c'è una ci sono altre figure professionali che formiamo la prima sono tutte figure nell'ambito dell'ingegneria del software enterprise software architect software engineer software maintainer software quality assurance manager eccetera e quindi se siete voi potete esatto focalizzarvi questi sono suggerimenti degli insegnamenti focalizzarvi su uno due profili potete anche decidere dato che gli insegnamenti sono sei a scelta libera potete anche decidere di scegliere due insegnamenti per tre figure professionali diverse la massima flessibilità perché magari c'è lo studente che dice no io sono appassionatissimo di bioinformatiche voglio fare tutto quello che riguarda la bioinformatica invece c'è lo studente che dice no io sono interessato a software engineering però sono interessato anche a intelligenza artificiale e seguo insegnamenti che noi suggeriamo per le due figure professionali però appunto senza obbligarvi a seguire tutti gli insegnamenti di uno o dell'altro profilo sottolineo che l'ultimo profilo che abbiamo messo è junior researcher junior researcher proprio perché voi potete anche decidere di proseguire con un phd e poi iniziare o cercare di iniziare la carriera accademica segnista di ricerca poi ricercatore e così via o anche fare il phd e poi andare a lavorare in azienda io ho avuto appunto casi di studenti molto bravi che hanno fatto triennale magistrale e dottorato con me poi questo è un esempio particolare hanno aperto un dottorato un dottorato poi non volevano intraprendere il percorso della carriera accademica hanno aperto una start up e poi questa start up è stata acquisita da un'azienda con un percorso comunque il fatto che abbiano fatto il dottorato è stato riconosciuto dall'azienda non è come un laureato magistrale che va e si entra in azienda quindi il dottorato è assolutamente riconosciuto tesi ovviamente la tesi dovete sviluppare un lavoro originale dovete svilupparlo in autonomia avrete un relatore di riferimento anche per la tesi l'ambito di maggiore vostro interesse o gli ambiti andrete dai due o tre docenti a chiedere quali sono le proposte di tesi spesso anche lo studente lo chiede alla fine di un insegnamento chiede al docente quali sono le proposte di tesi potete farle quindi presso il disco oppure anche in un ente esterno e ovviamente come ho detto prima potete farle all'estero con il programma Erasmus Trainingship approfondimenti qua c'è un link con le registrazioni delle descrizioni delle presentazioni degli insegnamenti a scelta dello scorso anno che per voi lo faremo a settembre qua ho messo il link delle presentazioni degli insegnamenti a scelta dello scorso anno quindi questo è sicuramente un momento molto importante quindi vi invito a partecipare a questo evento ci tengo a sottolineare questo aspetto che è molto molto importante ci sono degli esami di insegnamenti del secondo anno possono essere anticipati al primo a me capita spesso il mio esame è del secondo anno il primo semestre mi capita spesso anche quest'anno mi è capitato che uno studente iscritto al primo anno quindi nel primo semestre quindi primo anno magistrale primo semestre abbia deciso di seguire ad esempio anche il mio corso oppure seguire ovviamente qualunque altro corso che era erogato al secondo anno primo semestre quindi voi potete anche quello anticipare se volete lo sottolineo perché capita spesso di studenti bravi ovviamente sono studenti molto bravi che decidono di anticipare l'esame quindi di seguire magari non possono seguire tutte le lezioni ma in parte comunque decidono di anticipare un esame del secondo anno al primo anno i laureati possono sostenere l'esame di stato per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e accedono con il titolo di ingegnere dell'informazione e poi sto ho quasi finito tutte le modalità potete trovare tutte le ulteriori informazioni modalità di accesso informazioni sulle tesi aziendali eccetera sul sito poi su moodle come immagino avrete già avrete già visto tutte le informazioni che ci sono disponibili su moodle e poi potete scrivere alla segreteria didattica o potete scrivere anche direttamente a me come presidente del corso di studi seguitici quindi su instagram la pagina instagram è per le due lauree trinnale e magistrale ecco non è che pubblichiamo tantissimo ecco lo devo dire però se se ci seguite è sicuramente meglio e con questo concludo quindi io spero magari di aver convinto qualche indeciso se proseguire o meno con una laurea magistrale in informatica spero di averlo convinto è sicuramente una laurea proprio per costruire gli scenari futuri ma per costruirli per affrontarli e anche direi per prevederli quindi vi spingo assolutamente a non fermarvi e proprio su perché poi se dopo la laurea trinale ci si ferma riprendere dopo è molto difficile soprattutto e poi vi potreste trovare in momenti in cui non potete fare un particolare salto di carriera o ricoprire una certa un certo ruolo perché per quello ci vuole la laurea magistrale e prima di prima delle testimonianze di due ex studenti che hanno intrapreso due carriere molto interessanti molto interessanti molto stimolanti quindi che ci saranno fra poco prima delle loro testimonianze faccio intervenire un minuto uno studente che appunto ha conseguito il titolo di laurea trinale in informatica poi è andato a lavorare quindi Mohamed Yassin è andato a lavorare e poi è ritornato quindi si è pentito spero grazie mille buongiorno a tutti io mi chiamo Yassin e quattro anni fa ero nella vostra stessa situazione ero indeciso se andare avanti se andare a lavorare non sapevo cosa fare della mia vita ho avuto un sacco di offerte di lavoro quando mi sono laureato quindi alla fine ho preso la decisione di andare appunto a affrontare il mondo del lavoro però mi sono accorto sulla mia stessa pelle che andando avanti con gli anni i miei stessi colleghi andavano avendo fatto la laurea magistrale avevano più possibilità di fare carriera quindi ho deciso di tornare sui miei passi e iscrivermi alla laurea magistrale due anni fa adesso sono laureando e sono soddisfatto appunto della mia scelta e ho ricevuto molte più insegnamenti e anche diciamo che mi trovo soddisfatto della scelta che ho fatto dire che bene quindi ricordate di questa testimonianza di Mohamed che è assolutamente importante grazie grazie infinite allora come si allora adesso Michele Zonca poi ci sono adesso le testimonianze degli ex studenti e poi se avete domande per me o anche per i i relatori che intervengono adesso le facciamo dopo i loro dopo i loro due interventi se avete domande siamo a disposizione grazie Michele ciao a tutti allora oggi volevo raccontarvi un attimo quello che ho fatto dal punto di vista proprio di attività lavorativa e in generale di esperienze in gran parte perché quello che ha appena detto la professoressa Arcelli un po' cioè parecchio lo vedrete mi ci sono ritrovato per cui inizio da una brevissima descrizione di quello che ho fatto io rientro nella casistica di studenti lavoratori per la magistrale per cui ho sfruttato al massimo la pazienza dei professori per cui ci ho messo cinque anni circa per fare la specialistica ma stavo già lavorando appunto per cui avevo aperto partita IVA per flessibilità sono riuscito a dare gli esami con calma e ce l'ho fatta dopo un po' di anni intanto avevo iniziato a lavorare ho cominciato a lavorare come freelance in diversi ambiti in diverse aziende di diversa dimensione quindi con anche meccanismi interni differenti e anche in università perché uno dei progetti che avevo fatto per per un esame per un po' è diventato un progetto universitario per cui ho lavorato e poi dopo tutta l'esperienza quando sono rientrato in Italia dopo l'esperienza di MyShape ho anche insegnato alla triennale di informatica però un po' di anni fa per cui non penso che di avervi visto finora e poi più che altro la parte di start up che è stata quella più formativa e più impegnativa quindi ho fatto diverse start up come fondatore in altre sono entrato ho partecipato come sviluppatore quindi Quisque è una che vi racconto brevemente per farvi vedere un po' anche come funzionano certe cose certi meccanismi come si evolve un'idea nel corso degli anni MyShape è stata la mia prima in realtà per cui sono andato in America però ve la cito rapidamente adesso ho cambiato nome si chiama Kong per cui se andrete a fare i DevOps e dovrete bestemmiare su un cluster Kubernetes è possibile che usiate l'ingress di Kong nel caso non è colpa mia scusate detto questo poi c'è altri due Wet Libra e Razer che sono dei progetti differenti uno in ambito diciamo gestione dei progetti e uno più proprio agenzia diciamo di sviluppo allora vi racconto questa perché è quella un po' più significativa dal punto di vista del cambio di strada nel senso che siamo partiti con questa piattaforma per i parcheggi IoT che è un termine che io cerco di non usare quasi mai perché è stato abusato però abbiamo fatto una scatoletta che andava dentro nelle sbarre dei parcheggi e sfruttava il meccanismo di apertura di emergenza che devono avere per legge tutti i parcheggi per aprire la sbarra fondamentalmente ad altissimo livello quindi il concetto è noi abbiamo fatto questa piattaforma per poter gestire e digitalizzare l'esperienza di entrata nei parcheggi con l'idea di farla B2B quindi noi andavamo da partner scusate intanto gli aggiornamenti li faccio dopo e andavamo da partner quali Smart e Unipol a offrire l'accesso ai nostri parcheggi in modalità assolutamente business la cosa è cambiata così tanto che ci siamo ritrovati a fare un'applicazione B2C quindi abbiamo un'applicazione sullo store che fa prevalentemente ricarica ricarica di auto elettrica per cui nel corso degli anni vedendo il mercato vedendo l'evoluzione del mercato abbiamo cambiato totalmente idea abbiamo ancora adesso i parcheggi ma giusto per motivi storici diciamo ma la parte principale sono le auto elettriche e adesso praticamente l'app si chiama Hello Mobility e abbiamo una partnership con Arval per cui adesso il nostro focus è diventato questo nel corso degli anni questa start up ha circa 7 anni per cui durante gli anni abbiamo cambiato totalmente sia focus business che prodotto perché prima era sui parcheggi adesso è più sulle colonnine per cui quello che succede è che normalmente soprattutto in ambito start up l'idea evolva in base allo scontro col mercato quindi man mano che l'idea cambia spesso ci si ritrova a dover usare altre competenze o altri approcci per cui siamo ritrovati con 4-5 linguaggi tra l'altro per la parte Internet of Things ci siamo ritrovati a fare le abbiamo implementato un algoritmo di curve ellittiche che poi abbiamo scoperto dopo che era anche quello usato dalla blockchain poi abbiamo fatto abbiamo i microservizi per cui ogni microservizio può essere sviluppato in modo diverso e ne abbiamo approfittato per fare un po' di linguaggi oltre ovviamente alle due applicazioni native quindi ci sono poi altri altri linguaggi però ci si ritrova anche a dover usare diversi database perché hanno funzionalità diverse SQL e non SQL hanno potenzialità diverse e non vanno assolutamente in conflitto anzi ci si ritrova spesso a usarli in contemporanea per cui anche le conoscenze di base di database e di sistemi operativi Kubernetes cioè queste qua sono più o meno a macroare quello che durante l'evoluzione del progetto ci è servito vi cito rapidamente anche questa perché anche questa è una storia interessante questa era una startup in ambito second screen quindi abbiamo fatto un'applicazione anche lei B2C scusate B2B quindi andavamo da squadre di calcio e leghe sportive per cui al piccolo vanno dentro l'applicazione del Real Madrid del Barcellona di Serie A Team e di Jumentus più altri minori per cui abbiamo iniziato qua prima a fare un'applicazione così second screen quindi durante il live quindi tu stai guardando la televisione puoi fare una serie di operazioni sociali con i tuoi amici attraverso il telefono anche su questo abbiamo fatto iterazione abbiamo cambiato tecnologie abbiamo cambiato approccio abbiamo avuto applicazioni direttamente noi quindi siamo passati dal B2B al B2C siamo arrivati ad essere 15 persone circa 30 milioni di utenti e poi siamo stati acquisiti da Minerva Network che ci ha fatto fare cioè ha preso il prodotto e l'ha utilizzato nel loro sistema fate conto che Minerva Network è un po' come dire il sistema che fa la team box quindi il streaming di televisione per cui hanno adattato quello che noi abbiamo fatto per il loro scenario e per farlo quindi abbiamo poi sviluppato altre tecnologie fatto altre prove per esempio siamo finiti a fare anche il metaverso che come sapete non è stata proprio un'idea vincente però ci abbiamo giocato un po' lo stesso per cui il Mozilla Labs è una piattaforma di realtà virtuale diciamo metaverso se vogliamo chiamarla così in cui praticamente quindi si creava una stanza e le persone potevano entrare c'era il mega schermo con la partita o con la televisione o con il canale televisivo o con il film e attraverso il metaverso quindi si creava quell'ambiente di siamo insieme ma ognuno a casa propria è stato un esperimento poi il metaverso lo sta abbandonando praticamente anche anche Facebook per cui abbiamo adesso stiamo facendo più la parte vocale e anche video per poter interagire anche in questo progetto si sono ritrovati a usare linguaggi diversi quindi Java che lo sapete Erlang che spero non dobbiate usare mai Node.js e Ruby per cui in base al tipo di progetto al tipo di componente ci si ritrova sempre a dover adattare un po' l'approccio poi anche qua ovviamente sistemi operativi di rete di sicurezza è stato utile durante l'evoluzione del progetto anche qua abbiamo usato qua anche Postgres abbiamo abbiamo usato tre database e poi ovviamente un sistema di cache perché con 30 milioni di utenti è utile avere anche un'impostazione più flessibile anche questo è i microservizi per cui i microservizi poi entrano in gioco anche una serie di meccanismi di comunicazione di pattern di comunicazione che sono sempre molto interessanti quindi questa è una citazione che mi piace sempre mettere perché è di parecchi anni fa però il punto è che l'informatica in generale ormai lo sapete è invasiva su qualsiasi cosa dalla prenotazione di un parcheggio a tutto negli ospedali nelle scuole ovunque quindi quello che per me è è stato interessante di lavorare in questo settore e quindi studiare in questo settore è il fatto che ci sono sempre delle grosse sfide da affrontare perché chiaramente nel momento in cui hai un progetto che poi lo devi lanciare c'è la sfida di prepararlo di spiegarlo anche di comunicare che cosa fa e come lo vuoi fare poi implementarlo lanciarlo poi farlo scalare se va bene ci sono innumerevoli scenari da gestire perché all'inizio non puoi sapere cosa vai a fare fondamentalmente almeno questo poi ovviamente è nel mio ambito più da start up quindi è sempre un caso un po' particolare però nel mio caso so sempre che quando lancio una cosa non è detto che resti così nel corso degli anni perché alla fine anche l'informatica è un mondo in continua evoluzione lo sapete se seguite un po' le news e i vari trend è veramente vasto e continua ad evolversi quindi si continua ad imparare che è una cosa per me estremamente importante quello che però vedo io almeno dal mio punto di vista che poi faccio fatica cioè quindi faccio sempre più fatica a trovare il tempo per dire adesso mi studio questo protocollo mi studio questo paper quindi per me è stato fondamentale comunque partire da una base già completa però ci si può divertire perché appunto nel momento in cui c'è passione in quello che si fa è bello anche fare le nottate a bestimare su un database o su un cluster poi non sempre si risolve per cui non sempre ci si diverte veramente però di base è questo per cui come vedete rientra un po' tutto quello che è stato detto finora in tutti i progetti forse in uno l'avevo scritto in una slide ma non l'ho citata da adesso lavoro sempre da remoto tendenzialmente da remoto il team è distribuito ogni tanto ci troviamo per cui anche il discorso di soft skill della comunicazione per me è fondamentale nel senso che anche i ragazzi con cui lavoro mi trovo meglio con quelli che hanno anche la capacità di spiegare un problema in modo chiaro perché mi è capitato di lavorare con un ragazzo giovane che mi diceva ho un problema in chat e io dicevo dimmi ti chiamo? no no nel senso così diventa sincrono diventa problematico magari sono già in chiamata sono in riunione per cui la questione è cerca di scrivermi il problema e in particolare questo ragazzo aveva proprio tanta fatica faceva tanta fatica spiegare qual era il problema lui mi diceva non funziona quindi in questo caso ci abbiamo lavorato su un insieme un po' a cercare di arrivare a una comunicazione efficace perché soprattutto nel lavoro da remoto che comunque è più comodo comunque è meglio è più flessibile per un sacco di motivi è importantissimo anche quello per cui veramente io mi sono ritrovato in tutto quello che ha detto la professoressa Arcelli che tra l'altro è stata mia controrellatrice per cui ho aspettato cinque anni la mia tesi per cui insomma è stato anche interessante anche quel periodo ecco qua basta io vi ho lasciato la mail nel caso abbiate anche dubbi più avanti per qualsiasi cosa sappiate che o qua o su LinkedIn insomma mi trovate grazie grazie ok buongiorno a tutti io sono Federico Belotti e sono un ex studente quindi ho fatto triennale magistrale qua e quello che volevo raccontarvi oggi era un po' appunto diciamo quello che mi ha lasciato l'aver studiato informatica specialmente qua in Bicocca e quindi un breve escurso su quello che ho fatto quindi ho mi sono laureato in triennale nel 2018 e ho lavorato principalmente in ambito computer vision quindi abbiamo utilizzato le solite reti che vengono utilizzate ormai appunto dal 2018 Resnet e quant'altro per fare riconoscimento di immagini ho proseguito poi il percorso facendo una laurea magistrale dove ho cambiato totalmente percorso perché sono passato a fare natural language processing con professor Palmonari che immagino conosciate da fondamenti si dove sostanzialmente cercavamo di capire come e quanto cambiavano significato le parole nel corso del tempo ci sono mille esempi se prendi una parola che nel 1950 aveva un significato oggi ne ha un altro che è totalmente differente e quindi cercavamo di capire come cambiavano questi significati dopo la magistrale mi era stato proposto di fare un dottorato ma in realtà ho detto no vado in azienda e ho iniziato a lavorare per quella che era una start up prima e ora è un po' più strutturata che si chiama Robix ed è sostanzialmente una società based in Bergamo io sono di Bergamo si capisce l'accento dove sostanzialmente ho lavorato un po' dappertutto cioè nel senso ho iniziato ancora facendo computer vision a un certo punto poi sono arrivati è entrato un progetto con i ragazzi di Milestone che sono quelli che sviluppano MotoGP e quindi ho lavorato in ambito reinforcement learning perché abbiamo diciamo abbiamo sviluppato un software un framework che permettesse a quelli di Milestone di fare un sacco di esperimenti per far apprendere agli agenti a guidare sostanzialmente MotoGP abbiamo sviluppato ShipRL e Ship perché c'è tutta la lunga lama vicuna e compagnia bella con tutti gli animaletti e quindi anche noi abbiamo detto mettiamoci qualcosa del genere sono usciti poi è esploso c'è stato il boom dei language model c'è GPT lama appunto e quant'altro e quello che abbiamo fatto è che abbiamo sviluppato sostanzialmente un'altra libreria che si chiama ShipRHF che permette di allineare i language model alle preferenze dell'umano che sostanzialmente è l'ultimo pezzettino del training di c'è GPT quando utilizzano reinforcement per dire sostanzialmente per far apprendere al modello appunto a seguire le preferenze degli esseri umani per le parole e poi sono stato tre anni in aerobics e da gennaio quindi da quest'anno da poco da un paio di mesi sono tornato in università e ora sono assegnista di ricerca dove l'ambito NLP però faccio semantic table interpretation che è una roba che non c'entra nulla con quello che ho fatto prima quindi insomma ho fatto un sacco di robe come? ecco è qua che è sostanzialmente dove mi vorrei soffermare una cosa che mi è stata insegnata e che mi è rimasta tantissimo quindi dalla laurea magistrale che ti viene insegnato come approcciare i problemi ok e c'ho un aneddoto del professor D'Annunzio che è qua presente ho seguito il suo corso della magistrale di sistemi complessi incerti dove si fa un sacco di matematica che è bellissimo a me personalmente poi non mi è più servito cioè nel senso perché non lavoro in quell'ambito però io una cosa che mi ricordo del professor D'Annunzio è che quando c'era un teorema da dimostrare lui partiva sempre e ci diceva ok noi vogliamo arrivare qua quindi che cos'è che vogliamo risolvere e per arrivare qua abbiamo queste ipotesi e cerchiamo di seguire un percorso che da qua ci porterà a ciò che vogliamo dimostrare in questo caso ok ma quell'approccio qua è praticamente l'approccio che potenzialmente si usa quasi sempre ora che sto mi sto approcciando al mondo della ricerca c'è un problema e mi chiedo che cos'è che voglio risolvere che cos'è che vorrei ottenere dal mio modello di machine learning o quello che è dal language model quello che volete dico ok io voglio arrivare qua prima definisco bene dove voglio arrivare poi penso a come arrivarci ok e questa è una cosa che mi è rimasta impressa e che mi rendo conto che utilizzo diciamo io ho sempre utilizzato poi mentalità ovviamente sempre rispetto a ciò che si chiedeva e che diceva la professore Sarcelli che è molto collegato a ciò che ho detto prima è sempre chiedersi il perché delle cose quindi quando avete di fronte un problema o una soluzione ad un problema chiedersi sempre il perché l'han fatto come l'han fatto che cosa volevano risolvere quindi cercare sempre di avere uno spirito molto critico quindi non prendete nulla per dato ok esce Gemini Pro di Google ti fanno vedere il tech report e sono straforti però non lo so fidarsi bene non fidarsi meglio quindi sempre cercare di avere appunto un approccio molto critico e allo stesso tempo curioso che ti permette appunto poi di avanzare sostanzialmente quando poi si ha un problema da risolvere e la terza cosa è la collaborazione quindi come ha detto la professoressa Arcelli durante il percorso della magistrale voi potete fare una vagonata ma una vagonata di progetti e i progetti la maggior parte delle volte non li fate da soli ok siete sempre almeno in due e collaborare è fondamentale in qualsiasi ambito sia che andiate in azienda sia che poi vi fermiate fate un dottorato andate a fare ricerca comunque dovrete sempre sempre interagire con altre persone e quando il team diciamo è unito compatto e segue una stessa direzione ok le cose poi come diceva Zonka nel senso si portano avanti molto più velocemente e tra l'altro sono stato tuo studente di sistemi distribuiti quando ho fatto la triennale piccolo escursus e è nulla quindi diciamo questo era quello che volevo portarvi ed è ciò che appunto mi è stato insegnato durante i due anni di magistrale quindi spero che continuate anche voi nel vostro percorso di studi e che magari non saranno le stesse cose che vi rimarranno però magari saranno altre e magari saranno le stesse e grazie questa qua è una formula molto importante quindi tutti i transformer che vedete adesso ecco la roba lì tatuatevela torna giù torna giù anche Michele però spazio a voi non c'è domande domande ci sono domande sia per me o anche per i due precedenti relatori grazie allora io avrei una domanda per Michele che ha detto di aver raffrontato la magistrale nel tempo diciamo in più tempo perché nel mentre stava lavorando se dopo si è pentito di questa cosa avrebbe voluto concentrarsi magari solo sulla magistrale se fosse stato possibile naturalmente interrompere dal nulla il percorso lavorativo o se invece è stato utile affrontare sia il percorso lavorativo che affrontare la magistrale in contemporanea no nel mio caso io mi sono trovato bene così perché comunque sono riuscito a cominciare a mettere in pratica qualcosa mentre poi approfondivo quindi mi è servito nel mio caso specifico perché poi appunto sono comunque una smanettone per cui indagavo anche la sera su altre cose e facevo delle prove però mi ha aiutato tanto perché a me la parte pratica comunque serve per capire poi la parte teorica e viceversa quindi la magistrale l'ho fatta poi molto bene perché lavoravo e intanto lavoravo e lavoravo bene nel senso che sono riuscito a fare le mie consulenze in partita IVA perché avevo già una base e che ogni giorno aumentava per cui sì nel mio caso specifico non cambierei nulla però non vuol dire che sia valido per tutti dipende dal modo però sì sì nel mio caso sono contento così questo relativo invece al corso magistrale se ci sono dei percorsi dedicati a studenti lavoratori come alcune triennali o se invece è la parte del lavoratore che deve lavorare per essere studente no non ci sono percorsi per adesso non abbiamo percorsi dedicati agli studenti lavoratori quindi attualmente gli studenti lavoratori abbiamo avuto anche le esperienze come abbiamo visto prima riescono quindi alcuni che riescono a seguire parti delle lezioni poi materiali di disposizione che siano lezioni registrate o non lezioni registrate il materiale a disposizione ovviamente sempre completo e molto ampio però non abbiamo ad esempio un percorso serale ecco in questo senso oppure lezioni al sabato ecco questo non l'abbiamo ancora previsto e vedremo se anche io avrei due domande la prima è come ha detto lui per gli studenti lavoratori un piano per gli studenti lavoratori ok non c'è un corso serale va benissimo ma si riesce a integrare entrambe le cose nel senso si fa un piano magari invece che due anni quattro anni però dando un numero minori CFU ma si è diciamo un po' aiutati dal professore o magari con lezioni registrate o si viene un po' abbandonati assolutamente non si è abbandonati emarginati assolutamente e penso che anche Michele Zonca possa testimoniarlo assolutamente quindi non cioè se lo studente lavoratore come l'esperienza di Michele ci metterà più tempo perché ovviamente penso che sia inevitabile ma assolutamente non si è emarginati e i docenti sono assolutamente disponibili ad andare incontro agli studenti lavoratori e le loro esigenze non abbiamo appunto il percorso serale o sabato questo non l'abbiamo però c'è da parte degli docenti massima disponibilità ad andare incontro ho avuto studenti anche che hanno seguito magari poterono seguire una lezione su due quindi poi anche in termini di domande materiale di approfondimento tutto poi il progetto d'esame l'hanno fatto esattamente come gli altri benissimo quindi voglio fare una domanda al volo a Michele perché lo conosco bene perché a Sistemi Distribuiti lavoravamo assieme quanto lavoravi in una settimana tipo mentre studiavi magistrale perché anche aiuta a capire a lui certo sì allora io essendo in partita IVA facevo gli orari un po' più flessibili per cui è capitato che finissi qua in università alle 4 e mezza e direttamente andavo in ufficio a lavorare altre 4 ore 5 ore per cui più o meno penso che stavo sulle 30 ore settimana di lavoro circa quindi non un full time non un part time un po' di più di un part time poi a seconda dei periodi nel momento in cui c'era più l'esame da preparare semplicemente in partita IVA avvisi e dici io settimana prossima non ci sono e non c'è problema da dipendente c'è più la richiesta quella ci sono anche a livello aziendale noi con dei ragazzi che abbiamo assunto firmavamo la richiesta di permessi per studiare per cui il momento della tesi o di un esame a quel punto ha la possibilità di non andare al lavoro per cui insomma più o meno con quella flessibilità si riesce ok l'ultima domanda io ho parlato anche con il professore dell'annunzio eccetera per orientamento e l'offerta che voi presentate come laurea magistrale è validissima è perfetta cioè va bene però mi servirebbe mettiamola così parlando con i docenti proprio uno barra due insegnamenti che vengono tenuti in bicocca sempre ma non in informatica è possibile per caso metterli come sovrannumero o cose di questo tipo sì 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 no per il piano di studi liberalizzato intende no sì sì corse scelte fuori di informatica scusa corse scelte fuori di informatica si possono inserire nel piano di studi ecco adesso su questo non mi sono soffermato poi si soffermerà anche il professor Maurino quando presenterà Data Science però appunto adesso anche nel regolamento è presente appunto una frase relativa appunto ai piani di studi personalizzati ci sono sia piani di studi personalizzati sia i piani di studi normali i 12 CFU a scelta libera sono scelta libera possono essere di altri corsi di studio fisica AI Data Science libera naturalmente coerente niente ci sono altre domande altre domande o a me ho visto che negli sbocchi professionali aveva inserito anche UI UX designer ma lei ritiene che questo come corso magistrale si addica come per orientarsi guardi è sicuro adesso io lì non ho indicato per tutti i vari profili gli insegnamenti suggeriti per quel profilo non mi ricordo erano suggeriti due o tre insegnamenti se lei interessa può sicuramente seguire gli insegnamenti suggeriti per quel profilo come anche seguirne altri ecco per quel profilo specifico se non ricordo male abbiamo indicato due o tre insegnamenti ecco non mi sembra non di più per cui dato che avete sei insegnamenti a scelta può seguire quelli se le interessa riguardo quel profilo e anche altri riguardo un altro profilo ecco come per completezza del tema se si ferma c'è anche TTC alla fine che è molto diversa perché informatica è informatica che fa delle cose orientate allo UX design però è un informatico ok fa tanta informatica prevalentemente informatica altro è TTC però è una cosa che si può imparare anche da informatico certo altre domande se non ci sono altre domande passiamo adesso abbiamo gli interventi di due aziende quindi e poi c'è Andrea Cadei si altre domande comunque se avete poi altre domande specifiche potete scrivermi assolutamente se ti viene qualche altro dubbio se vuoi davanti e indietro volevo solo ricordare a titolo puramente informativo che la domanda di ammissione alla laurea magistrale la fate prima anche di conseguire il titolo triennale vorrei fosse chiaro questo cioè non è che uno deve prima laurearsi alla triennale poi fa la domanda di ammissione alla magistrale si fa prima la domanda tranquillamente ci sono le finestre e uno lo fa già appunto prima di aver conseguito il titolo triennale e seconda cosa chiaramente stamattina noi non abbiamo la possibilità di darvi delle informazioni dettagliate sugli insegnamenti singoli era chiaro l'ha già detto la professora Sarcelli e ha già detto anche che vorrevo ribadirlo ci sono le registrazioni degli incontri di presentazione tenutisi in settembre quindi andate a vedervi quelli integrando con quanto indicato su Moodle a livello di sillabi e di contenuti dei vari insegnamenti adesso diamo la parola a Giovanni Presti sì adesso ci sono due interventi di Giovanni Presti che si presenterà da solo perché in realtà l'obiettivo è presentare appunto un'azienda cosa fa questa azienda e perché è importante conoscere questo tipo di realtà per voi poi c'è un'altra persona che si presenta come naturalmente professionista ma anche come rappresentante di un'associazione di aziende per cui sono due interventi un po' diversi uno più focalizzato e uno un po' più ampio però anche Giovanni non è che parla di una cruna del lago voglio dire vediamo grazie Giovanni intanto buongiorno a tutte e a tutti io sono Giovanni Presti co-founder di Mipu un'azienda che si propone l'obiettivo di trasformare le fabbriche e le città portando quello che è la predizione e la cognizione all'interno di queste fabbriche quello che vi porto io oggi è l'esperienza dell'azienda di Mipu che è un'azienda che ha deciso un po' per indipendenza proprio per desiderio di fare tecnologia quindi avere un'indipendenza tecnologica indipendenza tecnologica un po' anche per libertà ha deciso di costruire tecnologia nuova tecnologia per le fabbriche piuttosto che per le città Mipu è l'unione di due ideogrammi giapponesi e vuol dire vedere in lontananza e vedere oltre gli orizzonti questo per noi è stato un po' il nostro lavoro quello la possibilità di poter prevedere ad esempio nelle onde di piena quello che succede a valle e quindi poter orchestrare quello che sono le paratie per evitare disastri di tipo naturale l'altro aspetto è quello di aiutarci ad essere antifragili perché per chi costruisce nuova tecnologia il tempo che passa dal momento in cui si ha l'idea al momento in cui si riescono ad avere delle soddisfazioni di tipo economico dimensionali o anche far conoscere la propria tecnologia all'estero passano tanti anni e quindi bisogna prevedere questa componente qui ed essere anche antifragili per poterlo fare oggi la tecnologia di Mipu è conosciuta da più di 200 aziende dove viene utilizzata principalmente in Italia ma anche in Giappone Corea del Sud piuttosto che Stati Uniti Stati Uniti Silicon Valley dove aziende che ammiriamo tanto utilizzano la nostra tecnologia per costruire questa tecnologia cosa occorre? occorre una visione complessiva di come si risolve un problema e l'indirizzo ovvero il percorso magistrale educa in questa direzione a cominciare ad avere una visione complessiva di come si affronta un problema di questo tipo e nello stesso tempo ovvero avere la visione complessiva cosa vuol dire? vi faccio due esempi conoscete i deviatoi dove passano i treni quindi oggi sono tutti quanti automatizzati il fatto di prevedere quando questo deviatoio quando questo deviatoio farà o svolgerà la sua funzione è determinante per poter garantire un tipo di servizio come si fa a costruire non è un solo algoritmo non è solo un modello di AI che risolve questo problema ma è un insieme di algoritmi che consentono di risolvere questo problema nello specifico c'è un algoritmo che fa clustering un algoritmo che fa l'anomaly detection e un algoritmo di AI che supervisiona un'altra AI e questo è una tipologia di problema un altro esempio che vi voglio portare è quello delle centrali di produzione di energia che sostengono un po' il paese l'obiettivo è produrre energia in funzione della domanda predire i guasti e consumare meno combustibile possibile in questo caso il gas progetti che prevedono circa un centinaio di modelli di AI algoritmi genetici che orchestrano tutto questo processo questa è una visione complessiva di un problema e il percorso magistrale avvia questa capacità di acquisire queste competenze un altro aspetto ancora ancora forse più importante è quello che durante il percorso magistrale si costruiscono relazioni relazioni significative che durante tutto il vostro percorso di vita lavorativa e anche di vita vi saranno utili per poter costruire un buon menu vi ritrovate quindi competenze relazioni sono ingredienti materia prima principale senza la passione non le attuiamo ho preso questa frase da un quotidiano la ragione e la passione a portarci di dove non avremmo mai immaginato di poter osare a darci la forza e la convinzione di un destino meno scontato la passione è l'antidoto alla mediocrità vi lascio con una un ragionamento che abbiamo fatto all'inizio di quest'anno con il team di AI con tutto il team legale dell'azienda che che tipo di intelligenza artificiale vorresti costruire l'idea che è emersa è quello di poter costruire un AI che ci alleni a sognare oltre gli orizzonti quindi competenze pregiate che arrivano e iniziano alla magistrale relazioni passione coraggio e magari siete sulla buona strada per costruire immaginare e costruire una vita bella impegnateli Giovanni per rompere il ghiaccio per magari stimolare qualche domanda da parte loro ti voglio chiedere tu hai già esperienze voi come azienda avete già esperienze con nostri studenti abbiamo diversi studenti della Bicocca devo dire anche di altre facoltà quando affrontiamo se fai tecnologia devi essere oltre lo stato dell'arte quando abbiamo bisogno di questo noi il nostro ateneo di riferimento è la Bicocca quindi Giuseppe in questo ambito ci aiuta stiamo portando adesso al tavolo una discussione congiunta con un altro ateneo che fa ingegneria industriale che non è il Politecnico ma è Tor Vergata di Roma perché si è l'università ma è anche sono i docenti che si appassionano a quella tematica che ti consentono di vedere oltre gli orizzonti fare crearsi una prospettiva di quello che può essere di quello che si andrà a realizzare sostanzialmente domande da parte vostra curiosità io volevo chiederle secondo la sua esperienza quanto la figura di uno statistico è importante in un'azienda e poi volevo chiedere ai prof secondo loro cosa può diciamo ottenere uno statistico da un corso di laurea magistrale in informatica allora statistica piuttosto che altre discipline scientifiche come anche discipline umanistiche come dicevo ti cominciano a preparare ovvero a costruire quel mindset che ti fa vedere il problema quindi statistico piuttosto che informatico è uno strumento è una capacità una competenza che uno mette a disposizione per poter risolvere il problema quindi lo statistico da solo sì non so se riuscirà a capire il dominio applicativo non posso pensare di analizzare solo dati staccandomi dal mondo reale di quello che è esattamente dove andrò applicare la mia competenza noi non facciamo almeno l'azienda Mipu non fa progetti data driven soltanto ma cerchiamo di conoscere quello che è il dominio che viene applicato perché dal dominio che viene applicato sappiamo quali competenze servono per poter affrontare quel tipo di problema quindi è una disciplina che è sicuramente ampia ma non possiamo trascurare il fatto di costruire e conoscere persone che hanno una vista diversa che sono di altre discipline scientifiche umanistiche che ci danno una completezza per poter affrontare al meglio quello che è un problema no non ci sono altre domande ancora lei ai prof scusi allora intanto calmo perché fra poco arriva qualcuno che presenta sicuramente statistica come uno dei profili di ingresso che è il professor Maurino perché data science diciamo sicuramente vede nel triennale in statistica un profilo di ingresso ok poi sicuramente la statistica è alla base di tante tecniche algoritmiche delle AI data driven alla quale si faceva prima riferimento poi naturalmente appunto si diceva giustamente prima che quella è una buona competenza di base fondazionale alla quale poi volendo come dire attaccare problemi specifici uno deve agganciare delle competenze specifiche perché statistica è fondamentale come meccanismo per capire problematiche mediche psicologiche in modo diverso naturalmente e anche tante altre per cui diciamo io credo che per una magistrale informatica un ingresso da parte di una statistica sia plausibile sì sì assolutamente quindi lei ha fatto stati ne deduco che sì sì assolutamente si possono può completare assolutamente bene nelle sue conoscenze con il nostro percorso di studi lo vedo molto bene poi tenga presente che alcune cose più le cose di cui parlava prima il Michele Zonca magari fanno un pelo meno inizialmente per lei perché sono molto più sull'ingegneria software dei sistemi lei invece starà più magari interessato ad aspetti di supporto alle decisioni è plausibile naturalmente deve esserci passione inizia pure a venire scusami c'è un'altra domanda tardiva io avrei una domanda per i prof avete detto che la tesi è di 33 CFU giusto vale 33 CFU sì e volevo chiedere ma la tesi è solo una ricerca oppure può essere affrontata come intriennale con parte di CFU che viene coperta da uno stage allora la tesi può essere ricerca può essere un progetto dipende anche dove con chi la farà la tesi se la fa con un docente del nostro dipartimento di solito appunto la tesi è più un'attività di ricerca ricerca che può prevedere anche progetti sviluppo di progetti ovviamente non proprio solo ricerca scientifica quindi sviluppo di progetti a seconda dell'ambito può se lo fa in azienda può farlo in azienda ecco anche lo può farlo in azienda poi deve avere sempre un relatore un referente un relatore interno e poi lo può fare anche all'estero come dicevo quindi più o meno è simile a quella della triennale cioè può essere simile a quella triennale solo che vale molto più CFU esatto simile nel senso che si può fare anche in azienda non c'è il discorso dello stage è un po' diverso però è proprio una tesi ok grazie ci sono altre domande poi anche se vengono in mente altre domande sì volevo dire che anche le tesi che vengono svolte nel dipartimento quindi seguite direttamente da un docente prevedono sia una parte di studio ma anche una parte di implementazione che sia chiaro cioè poi diciamo la gamma è molto ampia però assolutamente noi docenti che facciamo ricerca siamo impegnati in progetti di ricerca che prevedono anche lo sviluppo di software di sistemi eccetera quindi alcune tesi possono anche prevedere in una fase iniziale o in itinere la definizione a volte anche formale di partecipazione a un progetto per cui ci possono anche essere borse di studio durante ecco voglio dire non è solo ex post e aggiungo ancora una cosa poi lasciamo la parola da Andrea Cadei aggiungo anche che la differenza con quello che voi chiamate tesi che non è proprio il termine giusto della triennale ok che è lo stage ok non è stata solo che è un lavoro più grosso quindi prevede più CFU ma ci deve essere un contributo originale da parte dello studente cioè nella tesi della magistrale voi dovete dare un vostro contributo originale mentre di solito questo non è previsto nella stragrande maggioranza dei casi dei lavori degli stage della triennale dove siete guidati vi dicono cosa dovete fare ok lo fate seguiti mentre la magistrale ci deve essere proprio un contributo originale da parte dello studente che dimostri la vostra maturità anche nel fare certe scelte proposte poi chiaramente anche lì avete il confronto con il vostro relatore per carità però diciamo il vostro ruolo è più proattivo ok bene allora adesso direi se non ci sono altre domande passiamo la parola ad Andrea Cadei che vi ho già nominato prima quindi introdurrai tu anche Assintel le due parole su Assintel visto che è consigliere di Assintel grazie Andrea grazie buongiorno a tutti ciao ragazzi io sono Andrea Cadei sono consigliere di Assintel e sono un imprenditore ho fondato un'azienda che da qualche anno è parte del gruppo Zucchetti che magari conoscete Assintel è un'associazione di categoria collegata a Confcommercio conta 800 associati cioè 800 aziende del mondo dell'ICT che si occupano di diversi ambiti del digitale e della tecnologia queste 800 aziende sono composte anche da una buona percentuale di start up innovative e quindi nella nostra associazione cerchiamo anche di coccolare e dare una mano alle start up con delle idee interessanti oggi si è parlato molto di affrontare in maniera innovativa molti ambiti della tecnologia e noi che siamo 800 aziende collegate da un sacco di relazioni siamo una rappresentazione e un'eccellenza tutta italiana la maggior parte di queste aziende sono piccole e medie imprese e nelle piccole e medie imprese sono rappresentate eccellenze che poi dopo vengono esportate anche in tutto il mondo Assintel porta avanti due iniziative che oggi vi rappresenterò con un po' di numeri perdonatemi se in alcuni momenti potrei essere un po' noioso però credo che sia fondamentale per le scelte del cioè il motivo per cui siete qui abbiamo tessiamo relazioni quindi come associazione cerchiamo di mettere in relazione le aziende che rappresentano i nostri associati gli stakeholder e abbiamo dei tavoli di lavoro per discutere di nuove tecnologie l'anno scorso ero qua a presentare questo stesso evento e faceva un po' paura al tema dell'intelligenza artificiale l'anno scorso erano i primi titoli di giornali le prime evidenze di CiaGPT eccetera e si pensava che potesse essere qualcosa di preoccupante fra poco vedremo che al contrario invece è un'opportunità un'opportunità soprattutto per chi sta continuando a costruire le proprie basi di teoria ed è pronto ad affrontare il mondo che cambia vi presenterò quello che è una delle iniziative principali di Assintel che è l'osservatorio delle competenze digitali nell'osservatorio delle competenze digitali qui vedremo i dati aggiornati ad ottobre 2023 dove c'è una chiara tendenza ad un aumento degli annunci pubblicati sul tema del digitale di aziende prettamente di IT così come per aziende di altri settori che però necessitano sempre di più di personale che ha competenze digitali e di informatica oggi il mondo della formazione della scuola ahimè sforna solo 44.000 ragazzi persone che affronta di 219.000 offerte di lavoro disponibili di conseguenza per tutti voi ci sarà sicuramente lavoro ma in questo momento voi potete scegliere che cosa volete fare nel mondo dell'azienda domani e vi posso garantire che chi ha una più ampia veduta e quindi con le competenze previste da questo corso di laurea è assolutamente più facile trovare all'interno di queste nostre realtà molti più sbocchi e molte più possibilità l'intelligenza artificiale come dicevo poco fa in realtà ha segnato un'impennata ulteriore di annunci di lavoro focalizzati su questo ambito e quindi come possiamo vedere nel triennio c'è stato un aumento del 100% e come possiamo vedere da questo grafico la crescita di annunci di lavoro per profili digitali è cresciuta maggiormente qui possiamo vedere gli ambiti le figure professionali dove c'è più domanda nel 40% degli annunci si parla di sviluppo software il 20% per tutta la parte di system engineering e networking ma soprattutto e anche se la percentuale inferiore soprattutto per voi che state ragionando per avviarvi a questo ulteriore percorso di studi la parte di management voi secondo me affrontando questo tipo di percorso potete aspirare a ruoli di leadership e di conseguenza di governo anche di team e di guida nella direzione delle nostre aziende le richieste di lavoro sono per il 50% dettate da queste due regioni che vedete in blu e il 38% in Lombardia siete diciamo nella regione giusta per quanto riguarda la domanda dell'ICT un altro report che è l'assinter report che tutti gli anni aggiorniamo evidenzia che ci sono forti investimenti nell'ambito dell'ICT il 29% aumento di budget quindi queste sono le aziende che rispondendo ad un questionario dicono noi vogliamo spingere ulteriormente sui temi dell'ICT e di conseguenza budget per portare a bordo persone 46% grandi aziende 26% istituzioni e settore business to business una cosa molto interessante che ci rappresenta questo ulteriore grafico è che solo il 20% delle aziende alle quali è stato sottoposto questo questionario dicono di avere ottime competenze digitali interni e una cultura aziendale predisposta per l'innovazione per la digitalizzazione mi sembra un'opportunità interessante per tutti voi che da un punto di vista di competenze e da un punto di vista anche di momento cioè da un punto di vista di cultura innovativa che potete portare essendo voi così giovani credo che sia un'ottima opportunità per voi le altre aziende comunque sono nella maggior parte dei casi orientate a innovare e questa è una cosa sicuramente molto interessante quindi concludo dicendo che la laurea in informatica vi offre sicuramente una preparazione molto trasversale e vi garantisce io nel tempo insomma sono quasi vent'anni che gestisco azienda e le mie necessità di competenze sono cambiate radicalmente all'inizio ero un tecnico ho fatto un po' di sviluppo poi mi sono spostato sulla parte di gestione delle infrastrutture oggi l'azienda che guido è un'azienda di una quarantina di persone che ovviamente si occupano trasversalmente di tanti ambiti e devo dire che la mia duttilità è molto utile a dialogare un po' con tutti a tutte le persone che compongono il mio team quindi un ampio set di conoscenze l'impiego in numerosi settori anche fuori da aziende specifiche dell'ambito ICT mondo bancario ha un assoluto bisogno di personality assurance insomma tutti i settori e quindi poi viabilita eventuali percorsi successivi dottorati ricerca eccetera eccetera questo è solo un estratto ovviamente l'avete visto anche nelle presentazioni precedenti di quelli che possono essere i job title del vostro lavoro del futuro probabilmente questa è la slide dell'anno scorso avrei dovuto inserire un altro paio di job title e credo che sia molto positivo il fatto che ogni anno si inseriscano nuovi ruoli all'interno delle aziende e che ci siano università come la Bicoc che preparino ragazzi come voi ad affrontare anche il cambiamento che questa è una sfida che vi dovrete portare avanti per tutta la vita e la formazione che sarà costante grazie a tutti domande se non ci sono domande quindi passiamo a data science si ringrazio ancora ringrazio si ringrazio esatto sia appunto i due relatori delle due aziende e poi anche le due testimonianze che abbiamo avuto molto interessanti dei due ex studenti quindi qua finiamo la parte di informatica magari possiamo possiamo iniziare allora buongiorno a tutti io sono Andrea Maurino sono un docente del dipartimento di informatica e sono da un po' di anni il coordinatore del corso di laurea in in data science il corso di laurea è nato nel 2017 in realtà è più nuovo ma è un aspetto tecnico il primo in Lombardia nel nord Italia e nel punto di vista degli aspetti come dire di lavoro non ho riportato molti dati secondo Alma Laurea il tasso di assunzione nei primi sei mesi del 94% in realtà da noi è più vicino al 100% perché la quasi totalità degli studenti già durante la discussione della tesi di laurea dichiarano di essere già come dire stare già lavorando di essere già sotto contratto o comunque di ricercare il corso di laurea che abbiamo scelto di organizzare a Bicocca offre una figura di data scientist di tipo generalista quindi non specializzato altre università hanno delle figure data scientist per esempio in ambito medico scienze dure scienze sociali alla statale c'è un corso di data scientist in ambito economico noi abbiamo fin dall'inizio continuiamo a mantenere questa idea di fare un corso di laurea di tipo generalista l'altro aspetto fondante del nostro corso di laurea che è un corso di laurea come dire orientato agli aspetti pratici applicativi nella praticamente totalità degli esami e l'obbligo di fare un progetto con dati veri io insegno a un corso del primo anno primo semestre i ragazzi due settimane fa hanno fatto gli esami e tra i vari progetti hanno portato hanno parlato di Sanremo hanno parlato di come le condizioni meteo possono impattare ritardi delle compagnie aeree hanno altri progetti riguardo gli interessi personali qualcun altro mi ha parlato dell'andamento dei prezzi di mercato dei bitcoin rispetto ai commenti su reddit qualcun altro mi ha parlato di scacchi qualcuno mi ha parlato dei pokemon insomma perché ovviamente serve il dominio quindi cosa fa un data scientist ma sostanzialmente fa due cose la prima estrae valore dai dati quindi raccoglie i dati li acquisisce li pulisce li integra e ne costruisce dei modelli descrittivi predittivi per estrarre valore quindi ha un problema una domanda di ricerca a cui cerca di risolvere non fa solo questo perché un altro pezzo di lavoro importante nel data science è quello di riportare i propri risultati a qualcuno che deve prendere decisioni sia esso che so l'allenatore di una squadra di calcio a cui un data scientist gli porta le informazioni sulle tattiche degli avversari o l'amministratore delegato che deve decidere dove aprire un punto vendita o il responsabile vendita che deve capire se la campagna di marketing ha avuto successo oppure no non basta soltanto applicare modelli fare algoritmi meravigliosi tirare fuori dei dati ma deve anche rappresentarli a qualcuno e questo qualcuno si baserà sui dati risultati tirati fuori dal data scientist e spiegati al data scientist come base delle sue decisioni quindi questo è un pezzo molto importante come abbiamo immaginato debba essere la figura del data scientist in Bicocca sostanzialmente pensate alla lettera pi greco per noi un data scientist è una persona che ha forti competenze in statistica forti competenze in informatica e ha un dominio di conoscenza o lo ha perché suo interesse personale suo background o perché lavora e applica le tecniche informatiche le tecniche statistiche alla data science diciamo ci sono un sacco di modi anche divertenti di chiamare un data scientist per esempio si può dire che un data scientist sia uno statistico che ha competenze di informatiche o un informatico che ha competenze di statistiche comunque nelle varie definizioni risulti importanti anche gli aspetti di visualizzazione di raccontare una storia con i dati e diciamo delle soft skill capacità di operare in team per loro natura multidisciplinare per un data scientist è normale lavorare con psicologi con sociologi con ingegneri con architetti con qualunque tipo di persona quindi imparare fin da subito e noi cerchiamo di farlo in questo corso di laurea a lavorare con persone che hanno un background culturale molto diverso diventa fondamentale sul tipo di lavoro abbiamo immaginato quando abbiamo disegnato il corso di laurea due come dire due varianti due nuances vogliamo dire una la figura dell'analytical data scientist che è un data scientist che è più vicino al mondo tecnologico cioè abbiamo immaginato una serie di insegnamenti più adatti a chi vuole guardare più come realizzare gli algoritmi i sistemi per il supporto a decisioni per la predizione di modelli per l'analisi del testo eccetera quindi per sviluppare architetture e come dire sviluppare servizi design servizi data driven ma una seconda figura magari a data scientist più orientati alla parte come dire di business cioè persone che vogliono sviluppare nuovi servizi basati sui dati magari con uso come dire non banale e quindi che conoscendo le tecnologie informatiche e statistiche alla base della data scientist possono poi inventarsi nuove soluzioni nuovi servizi basati sui dati abbiamo dei ragazzi che ci hanno chiesto di aprire una società siamo molto contenti speriamo che lo facciano hanno avuto un'idea nel loro corso del corso di laurea vogliono portare avanti e quindi sono proprio queste figure di business data scientist non è un percorso quindi semplicemente suggeriamo che alcuni insegnamenti sono più interessanti perché è più interessato a come dire a sviluppare tecnologia piuttosto che a sviluppare nuovi servizi un po' di dati siamo alta scientist dobbiamo farlo più o meno il numero dei studenti è attorno al 100 variamo tra 160 e 100 ma 100 è un buon numero una cosa importante per noi venendo da un dipartimento STEM il 30% degli iscritti sono donne è pochissimo non ha senso la popolazione italiana e mondiale del 50 e 50 perché solo il 30% di ragazze fanno data science quindi ci teniamo tantissimo che vengano ancora di più da due anni il corso di laurea è erogato completamente in lingua inglese ci siamo aperti all'internazionalizzazione e quindi quest'anno abbiamo avuto più di un terzo degli studenti che vengono da fuori quando intendo fuori intendo che vengono da praticamente tutti i continenti tranne l'Australia e l'Antartida quindi Sud America Asia Paris Asia Medio Oriente Europa eccetera questo è importante perché quando uno fa un progetto in un gruppo con una persona che magari viene da un altro letteralmente da un'altra parte della terra è un buon modo per imparare a capire a collaborare con persone di un background completamente diverso il background è anche diverso dal punto di vista della formazione circa scusate circa 20% di persone vengono da informatica 22% vengono da ingegneria ingegneria informatica ingegneria matematica abbiamo avuto degli ingegneri materiali 24% vengono da statistica poi abbiamo un 16% di studenti che vengono dall'area economica diciamo chi ha fatto una triennale di economia con una buona percentuale di economia quantitativa quindi di statistica e matematica vengono benissimo e studenti che vengono da economia per esempio poi si lavorano in tesi di informatica fanno il dottorato abbiamo avuto esempi di questo tipo proprio perché hanno questo tipo di competenze abbiamo anche persone che vengono da psicologia sociologia teoria della comunicazione fisici matematici e quando si fa un progetto in gruppo di due o tre persone quando le tre persone c'è un informatico uno statistico e un economista non come nelle barzellette diventa interessante perché l'informatico sa mettere mano al codice però lo dico da informatico non si preoccupa tanto di quello che tira fuori invece lo statistico guarda meglio quello che tira fuori e spesso l'economista o le altre formazioni danno l'interpretazione e capiscono se quello che hanno tirato fuori ha senso oppure no questo è il compito fondamentale anche di un data scientist quindi questo background internazionale e multidisciplinare è esattamente la palestra dove poi andate a lavorare impariamo fin da subito a lavorare con gli strumenti e nelle situazioni tipiche di chi lavora nel mondo data science un po' di novità quest'anno abbiamo cambiato le regole di ammissione per un banale motivo l'anno scorso abbiamo avuto mille richieste quindi era un filino complicato gestirle letteralmente tutto il mondo quindi abbiamo cercato di semplificare requisito obbligatorio almeno 30 CFU come somma totale di questi insegnamenti di informatica ingegneria informatica statistica matematica e fisica la somma degli insegnamenti deve fare 30 almeno 30 certificazione di lingua B2 o equivalenti corsi di 3-4 CFU fatti in insegnamenti che hanno come settore scientifico disciplinare L-Ling 04 se non ricordo male sono requisiti obbligatori poi chi ha una laurea in informatica ingegneria informatica statistica matematico fisica e ha si sta laureando o è laureato con un voto minimo di 83 accede direttamente alla fase delle interviste chi invece non proviene da questo background deve avere all'interno dei suoi 30 CFU almeno 6 CFU in informatica e almeno 6 CFU in statistica è sempre un voto di laurea attuale o futuro di 83 centodecimi perché questo perché ci siamo resi conto guardando un po' di anni che per chi anche per chi non viene per chi viene d'economia ma deve avere un minimo di competenze di informatica e di statistica perché partire proprio da zero ci sono dei corsi di laurea di economia in cui non si fa neanche un esame di economia quindi neanche usare excel che per un economista insomma è proprio la base anche per il data scientist ma questo non si può raccontare è fondamentale per poter partire perché 83 beh abbiamo 7-8 anni di storia abbiamo guardato un po' l'andamento dei nostri studenti e ci siamo reso conto che chi ha un voto chi va a un voto triennale attorno al 90 fa un percorso magistrale indipendentemente dalla provenienza del corso di laurea se è lavoratore o se non lavoratore tranquillo in due anni due anni e qualche mese si laura con buoni voti senza problemi poiché ci sono ovviamente come dire mettere una soglia è troppo rigido abbiamo deciso di come dire di fazzificare il 90 83 che corrisponde al 30% superiore quindi il top 30% dei voti questo anche ci semplifica quando abbiamo gli studenti stranieri per la conversione di classe questi sono i requisiti cosa si fa nell'intervista è un intervista cerchiamo di capire perché volete fare data science perché da noi e non da qualunque altra parte letteralmente nel mondo è il vostro background è se ci sono delle lacune che magari durante il corso si possono formare e vediamo come il corso è costruito su tre pilastri voi noi e le aziende gli studenti noi abbiamo docenti di nove dipartimenti perché la data science è multidisciplinare e quindi abbiamo docenti di di rispudenza sociologia psicologia fisica chimica biologia oltre che informatici vediamo come utilizzati quasi tutti i docenti sono d'accordo nel registrare nel mettere a disposizione le registrazioni dei studenti diciamo quasi tutti perché io non posso come presidente ccd imporre nulla perché le modalità di legazione didattica è un diritto costituzionale di scelta dei docenti l'arte e la scienza sono liberi nel libro del loro insegnamento articolo 32 della costituzione quindi è molto difficile obbligarli ma quasi tutti sono d'accordo nel registrare nel mettere a disposizione il materiale per chi per esempio lavora gli studenti come vi ho detto vengono diciamo da tante parti del mondo da tanti percorsi di lauree diversi la frequenza ai laboratori è obbligatoria in realtà per venire in conto ai studenti lavoratori i docenti possono dare delle deroghe cosa può succedere può succedere che per esempio un docente può dire ad uno studente lavoratore va bene non frequentare le mie lezioni però mi devi dimostrare che hai imparato la parte laboratoriale che non fai o tramite un progetto o tramite degli assignment con delle regole diverse la regola il mio suggerimento più che la regola è per i studenti lavoratori scrivete comunicati ai docenti il vostro stato di studente lavoratore per essere certo che il docente come dire conosca la vostra situazione e vi nel caso proponga magari dei percorsi diversi di valutazione della didattica alcuni colleghi durante i laboratori fanno delle valutazioni se voi non frequentate i laboratori dobbiamo trovare un altro modo per capire se avete capito come si fanno i laboratori ma questo è circa il 16-17% dei studenti dicano di lavorare e i lavoratori si lavorano in pari un po' perché alcuni nostri lavoratori di mestiere fanno i data scientists per Sky per Mediaset o per altre aziende è un po' perché magari riescono a coordinare bene studio e lavoro sempre guardando i nostri dati quello che viene fuori sembra come tendenza che chi ha un lavoro fisso quindi lavora più del 90% tende ad avere un comportamento diciamo a andamento universitario più facile più veloce rispetto a chi dichiara di lavorare saltuariamente perché magari uno fa il consulente fa il consulente che quindi se a giugno riceve un'offerta di lavoro non può rifiutarla ma salta gli esami chi invece è a tempo pieno può gestire meglio il carico di lavoro però anche gli studenti diciamo lavoratori part time si possono laureare tranquillamente le aziende per noi sono importanti come collaborano con noi ma in tante maniere ci forniscono dataset ospita i nostri studenti in stage offrono delle borse di studio o organizzano delle gare oppure vengono in aula a raccontare le loro esperienze quindi come loro fanno data science e come lo possono utilizzare una novità importante e questo vale per tutti i corsi di laurea magistrali italiani di qualunque classe di laurea è che da quest'anno c'è una grossa novità io ve la racconto per data science ma ripeto i principi valgono per tutti i corsi di laurea perché è una legge nazionale allora noi abbiamo definito un come dire a livello di ordinamento come secondo noi deve essere fatto un data scientist e abbiamo detto che un data scientist deve fare da 15 a 30 crediti in statistica o matematica da 24 a 42 cfu di informatica eccetera eccetera deve fare 6 cfu di stage obbligatorio in azienda o nei laboratori 21 crediti per attesi 3 crediti per ulteriori conoscenze del mondo del lavoro che possono essere lingue o altre attività progettuali da 8 a 16 cfu a libera scelta e ovviamente qualunque combinazione lineare di questi insegnamenti basta che faccia 120 e rispecchi qualche altra regola è come dire elegibile per un nostro corso di laurea noi abbiamo implementato queste regole generali che noi ci siamo dati altri corsi di data science hanno dei numeri magari leggermente diversi abbiamo implementato in questa maniera abbiamo detto al primo anno per chi ne ha bisogno gli facciamo un approfondimento di informatico di statistica tipicamente gli informatici non è che fanno bene la statistica cioè fanno degli esami di statistica ma non è che si ricordano tantissimo e gli statistici o gli economici magari non sempre hanno buone competenze di informatica quindi diamo delle basi di informatica nella prima metà del primo semestre dopodiché corsi fondazionali e avanzati di informatica e di statistica poi un orientamento analitico business in base agli insegnamenti che scelgono e poi dei laboratori di colleghi non di informatica psicologia fisica biologia eccetera per applicare le tecniche di data science al loro dominio e poi vabbè la tesi lo stagio eccetera questo è come noi vediamo come noi vorremmo fare un data scientist e quindi tra tutte le possibili combinazioni di questi numeri abbiamo proposto questo organizzazione della didattica alcuni insegnamenti sono obbligatori e sono questi primo anno e secondo anno questi sono corsi a scelta e i colori diciamo cercano di rappresentare un po' gli interessi la somma di questi insegnamenti fa 12 da quest'anno e questo è per noi molto importante voi avete il diritto volendo di dire va bene ma io vengo da statistica statistica al modeling l'ho già fatto ho preso 30 lode ci ho fatto la tesi perché mi devi rinsegnare le stesse cose allora uno studente di statistica potrebbe dire ma io vorrei fare qualcos'altro magari un altro insegnamento di statistica che viene insegnato erogato al corso di laurea di statistica della magistrale di Bicocca oppure un informatico può voler dire ma io ho deciso il mondo e l'ho già fatto ma Schillern ci ho fatto la tesi posso fare qualcos'altro beh la risposta è sì nel senso che da quest'anno al prossimo anno voi potete presentare un piano di studi autonomo in cui fatto salvo questi numeri che sono i nostri del nostro ordinamento voi potete scegliere come disegnare per voi un percorso di data scientist che però deve avere questa struttura la lettera pi greca con i domini eccetera questo da grande libertà perché ormai in molte triennale ci sono un sacco di insegnamenti di introduzione al machine learning c'è un corso di lauree in AI dell'università di Bicocca di Pavia della statale in AI dove fanno tanti questi insegnamenti allora per loro se volete fare data science non c'è problema guardiamo insieme con la commissione didattica le vostre proposte e ragioniamo insieme se quello che volete fare come insegnamenti alternativi a questi vi offre comunque la possibilità di avere una figura professionale come quella che noi abbiamo immaginato scritto nell'ordinamento capite che questo vale per tutti ripeto abbiamo ovviamente chi sceglie un piano di studio autonomo potrebbe avere dei problemi con gli orari ovviamente non possiamo garantire la non sovrapposizione degli orari però diciamo invece è una possibilità che vi viene offerto questo vale ripeto per tutti i corsi di laurea magistrale e triennale italiani dal prossimo anno ed è un'opportunità per cui molti di voi magari che sono indecisi perché hanno già fatto un po' di cose di data science alla triennale possono pensare a questo tipo di corso per chi invece vuole fare questo tipo di organizzazione segnaliamo un paio di corsi nuovi che abbiamo aggiunto green computing secondo semestre del primo anno quindi dal prossimo su come utilizzare tecniche da science per consumare di meno l'industria ct è la terza industria più inquinante dopo il petrolio e la chimica quindi imparare a fare le cose consumando un po' meno non sarebbe male abbiamo un corso che invece aprirà il secondo anno per voi di reinforcement learning le cose che diceva il collega di prima abbiamo poi dei corsi di natural language eccetera in cui un po' svariamo poi ci sono i data science lab in cui appunto abbiamo chiesto ai colleghi di fisica che lavorano al CERN di Ginevra quindi con i dati dell'esperimento di Ginevra beh fai vedere come lavori ho dei colleghi che di scienza ambientale che sugge un'evoluzione del clima negli ultimi due milioni di anni come fare dei modelli di analisi su questi valori colleghi di psicologia comportamentale delle sociologi urbane per quanto riguarda le smart cities biologi insomma un po' di tutto proprio per darvi il dominio e dopodiché ovviamente ci sono lo stage da noi o in aziende dove volete la tesi da noi in azienda all'estero lo potete fare ma mi servono delle macchine particolarmente potenti no assolutamente no dal 2017 usiamo le macchine virtuali per cui chi non ha chi non vuole non può usare per fare i progetti della propria tesi delle macchine particolari gliele offriamo noi tramite la piattaforma Azure imparate anche a ricordarvi quelle cose banali tipo ricordatevi di spegnere macchine virtuali perché il conto lo mandano a me e quindi vi diamo un certo numero di ore se dimenticate le macchine accese e finite le ore beh imparate perché nel lavoro succederà così se vi dimenticate una macchina con una gpu accesa molto potente sono 300 euro al giorno quindi se vi dimenticate di spegnerla sono 300 euro al giorno che spendete in più abbiamo queste macchine virtuali potete utilizzare le vostre macchine senza problemi per quanto riguarda l'interna letteralizzazione abbiamo il corso in inglese quindi come dire il mondo che viene qui da noi potete parlare con colleghi dall'India dal Sud America dall'Iran dalla da vari posti ci sono i progetti Erasmus i programmi Erasmus sono tanti verso molte località europee anche abbiamo qualche ragazzo che ha fatto l'intership in America senza tipo di problemi come collaboriamo con le aziende tra i tanti motivi questo è un altro questo è un lavoro fatto per un mio esame primo anno primo semestre da tre ragazzi due di statistica e una di economia in cui avevano analizzato nel 2017 le top 50 playlist di Spotify in tutto il mondo e hanno detto quali devono essere le caratteristiche che deve avere una canzone per essere di successo nazione per nazione quindi hanno preso la musica la storia diciamo i testi le caratteristiche della musica la stabilità il BPM l'acoustiness e altre variabili la storia dei gruppi se sono gruppi uomini donne e per esempio scoprivano che nel 2017 per essere di successo avere una canzone tra i due minuti e i due minuti e i quaranta secondi di musica pop possibilmente cantato da un uomo americano che sulla scena da non più di 4-5 anni e poi ci hanno scritto un blog pubblicato sul sole 24 ore altri ragazzi nello stesso anno hanno fatto un analisi sull'ascolto social della partita questo era degli europei del 2018 non mi ricordo 2016 non mi ricordo Portogallo Spagna e si sono accorti che il momento di massimo diciamo commento social non è stato nel gol del pareggio ma nell'azione precedente che era quasi un gol e quindi fanno cose di questo tipo un'altra cosa questa settimana scorsa poi ne parleremo con un ospite con l'Inter abbiamo organizzato una challenge per i studenti del secondo anno chi ha come obiettivo diciamo il gol però dirà bene la persona che ho invitato trovate il futuro a Cerbi tra quelli disponibili sul mercato un'altra ovviamente queste sono cose a scelta che facciamo un'altra cosa che facciamo per gli studenti del primo anno quindi per voi che vi iscrivete e KNIME è una piattaforma di data analytics organizziamo delle challenge con loro i studenti del primo anno e si porta a un tema tra un dataset di una piattaforma che si chiama Kaggle se volete anche seguirlo Kaggle è una piattaforma che pubblica dati, algoritmi e lancia delle sfide tipo riconoscete le immagini dei funghi se sono mortali oppure no guardando solo le immagini o dei supermercati americani vi do i miei dati ditemi dove devo mettere il prossimo negozio in America guardando le vendite e altre cose ne abbiamo organizzate anche noi qualcuna con KNIME e i vincitori hanno un premio economico in alcuni casi o altre come di utilità e sono esempi che arricchiscono il vostro portafoglio in maniera tale che quando poi uscite fuori dal corso di laurea avete già come dire da raccontare oltre alla laurea la tesi eccetera anche queste attività che avete fatto ultima cosa amministrativa il prossimo anno avremo due finestre per gli extra UE quindi che richiedono il visto perché le procedure di visto sono molto più lunghe abbiamo anticipato la finestra dal 18 marzo dobbiamo avere conferma della data fino al 3 maggio per gli studenti italiani ed europei o studenti che hanno il permesso di soggiorno si apriranno le iscrizioni il 13 maggio fino al 3 giugno prima finestra e poi faremo i colloqui e poi ci sarà la seconda finestra dal 5 giugno al 30 di agosto stiamo aspettando perché c'è un processo amministrativo in mezzo le approvazioni del bando che nelle prossime settimane saranno attive quella dell'anno scorso è diversa quindi non vale più non abbiamo una finestra di iscrizione al secondo semestre quindi chi non si iscrive o non riesce perché non si riesce a laureare in tempo il limite per la laurea per noi è il dicembre del 2024 chi non riesce a laurearsi il dicembre del 2024 non può iscriversi al secondo semestre perché chi magari viene da un percorso di laurea che richiede dei prerequisiti rischierebbe di arrivare a fare dei corsi in cui si dà per scontato a certe cose se sono seguiti i corsi diventa difficile c'è la possibilità per chi vuole eventualmente di seguire dei corsi con iscrivendosi ai singoli insegnamenti poi gli veniamo riconosciuti l'ultima cosa che volevo dirvi prima di lasciare spazio a delle domande è un corso di laurea molto particolare rispetto ai vostri perché avrete persone diverse in tutti i sensi con cui lavorerete insieme questo è molto bello siate molto proattivi abbiamo una ragazza che in questo momento sta finendo lo stage in Ferrari Corse ha scritto lei una mail alla Ferrari vi serve un data scientist si l'ha presa un altro ragazzo sta facendo la tesi Parma calcio idem imparate voi a essere proattivi su qualunque cosa i ragazzi vogliono fondare una società ci hanno chiesto a me delle consulenze sulla parte dati al professor Pelagatti sulle serie storiche ovviamente nell'ambito degli insegnamenti gliel'abbiamo aiutati faranno la loro tesi sarà il cuore del loro sistema che dovranno sviluppare noi siamo solo contenti di queste cose e avendo numeri ragionevolmente piccoli è anche facile come dire gestire questo tipo di interazione io non ho altre domande a questo punto se avete delle domande magari prima di passare la parola ce n'è una da casa la faccio subito è una persona che ha diversi CFU in area statistica ne ha 30 non ha 6 CFU in F01 in GIF05 allora se la persona è laureanda o laureata in statistica in matematica in fisica o in ingegneria informatica può tranquillamente iscriversi si ha un voto di laurea maggiore di 83 maggiore di 83 altrimenti deve acquisire i 6 CFU di informatica come può farlo può iscriversi ad insegnamenti adesso che inizia il secondo semestre di qualunque università pubblica non accettiamo i corsi online tipo Coursera perché non c'è riconoscimento dei crediti questo ci serve perché ripeto l'esperienza che ci stiamo costruendo dimostra che chi non ha mai neanche aperto un computer la prima cosa che si fa su Azure è collegarsi in VPN o in SSH e collegarsi con lo che è password e chi non ha mai aperto un computer non per giocare o per guardare i social può essere proprio per entrare può essere una cosa piuttosto complicata altre domande anche qui diciamo dalle persone che ci ascoltano che sono qui in aula non siate timidi tutto chiaro non mi dubito onestamente il corso è regato completamente in lingua inglese sto vedendo se la persona si collega no altre domande sì ma per l'iscrizione nella prima nella prima finestra anche qui vale il fatto che se siamo laureanti quindi ci laureiamo a luglio ad esempio possiamo comunque fare cioè sì allora le regole sono la regola prevede che anche uno se si deve laureare basta che si laurei entro dicembre quindi che prometta di laurearsi entro dicembre può fare l'iscrizione anche nella finestra di maggio in quel caso noi calcoliamo la media sugli esami sostenuti ovviamente normalizzando la 110 eccetera eccetera nel caso uno magari a luglio gli manca a giugno gli manca un esame fa l'iscrizione poi si riesce a superare anche l'esame fa la tesi ci manda la comunicazione che ha superato l'esame e noi ricalcoliamo la media rispetto all'esame la cosa importante è che una volta superati i colloqui gli studenti laureandi sono ammessi sotto condizione che si devono laureare entro dicembre se entro dicembre non ottengono la laurea l'Ateneo di fatto blocca l'immatricolazione questo è una è un vincolo amministrativo diciamo così però sì i laureandi possono tranquillamente iscriversi da noi altra domanda da casa chiede se quindi rispettando questi vincoli si passa subito all'interview e non c'è un test d'ingresso no non facciamo più test d'ingresso per il semplice motivo perché l'anno scorso con mille persone di cui l'80% proveniente dall'estero era complicato anche fissare l'orario per via dei fusi orari più situazioni complicate di persone che mancava la corrente c'erano problemi quindi e poi visti anche i numeri di persone che superavano all'esame abbiamo visto che chi aveva un voto di laurea futuro o attuale con più di 85 superava il test chi era sotto 85 non superava il test quindi a questo punto avendo fatto anche questa prova avendo avuto queste correlazioni che non sono a causa azione come imparerete ma comunque aveva una qualche evidenza significativa abbiamo deciso di abbassare leggermente i livelli così evitiamo situazioni di arrotondamenti svantaggiosi ma così otteniamo questi risultati altre domande? Dubbi? Tutto chiaro? Posso chiedere a questo punto faccio una domanda a voi la provenienza a chi di voi viene da lauree triennali di informatica per l'alzata di mano? Ok invece da lauree di economia? Ok di statistica? Ok altri? Sociologia posso spiegare le vostre lauree giusto? Ok ne abbiamo già uno quest'anno? Ok ne abbiamo già uno che quest'anno si è iscritto? Ok matematica va bene va bene anche matematica ci sono già l'anno scorso abbiamo avuto anche un certo numero di ingegneri matematici che venivano da noi c'è un matto iscritto a TTC da matematica perché si può fare c'è una bellezza anche nell'eleganza dei sistemi allora a questo punto scusate sto invitando una cosa facciamo live non abbiamo fatto prove per colpa mia quindi ovviamente come tutte le cose live non garantisco che funziona ciao Giovanni ci senti? Giovanni? allora io non sento Giovanni aspetta che cerchiamo di capire se è un problema di audio mio allora dunque un attimo che facciamo così allora dovreste vedere Giovanni Giovanni dunque mi puoi far segno se riesci a sentirmi? ok io però non sento chiedo alla regia letteralmente se può aiutare perché non capisco se è un problema cioè il mio audio è acceso dovreste vedere Giovanni Giovanni dunque allora mi puoi far segno se riesci a sentirmi? mio dovrei parlare ok io però non sento forse adesso mi sentite chiedo alla regia letteralmente se Giovanni mi senti ora? perfetto se vuoi condividere prego va bene buongiorno a tutti sì diciamo se vogliamo partire dalla scuola per cui tifo per fortuna è la stessa che vedete quindi siamo a posto con tutte le norme interne allora mi presento brevemente sono Giovanni Marchese senior data specialist in FC internazionale da poco più di due anni ormai ho fatto un percorso di quella che una volta si chiamava scienze statistiche sia la laurea triennale che la laurea magistrale la magistrale si chiamava scienze statistiche decisionali e ho fatto questo percorso nel lontano iniziato nel lontano 2010 nell'università la sapienza di Roma e oggi chiaramente siamo siamo qua diciamo coinvolti nell'open day soprattutto per parlare di lauree magistrali quindi magari vorrei porre un pochino di enfasi su quanto per me è stato molto importante per eseguire il mio percorso di studi dopo la laurea triennale una cosa su cui a dire il vero non ho mai avuto grandi dubbi che però in effetti si è poi confermata al di sopra delle mie aspettative nel corso di laurea magistrale ho avuto modo di mettere finalmente in pratica un corso triennale che nel mio caso era stato anche abbastanza poco pratico e molto teorico se vogliamo mi ha dato la possibilità di effettuare dei laboratori parecchio avanzati e di finalmente migliorare anche un po' nel mondo della programmazione in codice tantissime delle cose che utilizzo al giorno d'oggi a lavoro provengono dai miei studi di laurea magistrale non so se ne avrei potute imparare facendo un altro percorso quindi ovviamente di questo sono in generale molto molto grato qui in Inter guido un team che si occupa di analizzare i dati tecnico-tattici delle nostre squadre al fine di rendere possibili per i nostri staff delle analisi dei report e diciamo delle considerazioni che li aiutino a prendere delle decisioni se non migliori quanto meno più informate la cosa interessante è sicuramente il fatto che questo ha poi un risvolto pratico che possiamo anche spesso vedere io allo stadio o poi magari in televisione e quindi sicuramente è un qualcosa che è anche molto gratificante qui noi ci occupiamo come dicevo di tutto l'ecosistema dati Inter ovviamente che non è solamente composto di dati tecnico-tattici di analisi per le nostre varie squadre dalla maschile alla femminile dalla primavera fino all'under 15 ci occupiamo ovviamente anche di diciamo dati di carattere magari burocratico di carattere economico o di diversi generi e la cosa interessante è anche il fatto che il team è in crescita e in questo momento ho dovuto sfruttare un po' tutte le mie conoscenze nel mondo della statistica quindi dai modelli fino alla data preparation fino alla data engineering se vogliamo mi sono confrontato già con diverse modalità di linguaggi di programmazione software di visualizzazione e altro quindi è stata un'esperienza che all'interno di un percorso mio come data scientist che perdura comunque da otto anni è stata sicuramente quella più completa in assoluto oltre al fatto che naturalmente potete immaginare che è un posto di lavoro abbastanza divertente questo qui il percorso che ho fatto è stato appunto come dicevo tracciato particolarmente da quella che è stata la laurea magistrale in scienze decisionali anzi devo dire che mi era piaciuto così tanto il percorso di laurea magistrale che nei primissimi mesi dopo la laurea io avevo una forte intenzione di fare un dottorato anche poi successivamente il lavoro in azienda diciamo mi è piaciuto mi è piaciuto quello che facevo e mi sono reso conto che avevo interesse nel proseguire una carriera presso le aziende ho lavorato in diversi campi prima di arrivare nel campo sportivo che era fondamentalmente ciò che volevo fare fin da subito infatti ho dedicato allo sport sia la mia tesi triennale che la mia tesi magistrale però appunto come dicevo in realtà il mio percorso la data scientist mi ha portato a lavorare in diverse realtà questo è un tema chiave della figura del data scientist il fatto che noi siamo ad oggi richiesti ovunque chiunque vuole avere bisogno di noi spesso nel mondo ci sono persone posti aziende che ancora non si rendono conto di quanto hanno bisogno di noi però ci vuole veramente poco poi per farglielo capire anche perché facciamo un lavoro che porta dei frutti che sono tangibilissimi che sono visibili e che quindi diciamo in un certo senso sono anche un po' inconfutabili e ci rende merito e soddisfazione quando lo vogliamo bene nulla non vorrei diciamo bloccarvi per tanto tempo a parlare di me semplicemente sono molto felice di avere questa opportunità di parlare con l'università Bicoc con la quale noi abbiamo un legame molto forte ormai da qualche anno dovete considerare che nel mio team ci sono due persone che hanno fatto questo percorso di laurea magistrale che sta presentando il professor Maurino e appunto come diceva una settimana fa abbiamo lanciato la nostra data science challenge questa challenge in breve si tratta di sviluppare algoritmi di comparazione devo dire un esercizio abbastanza realistico poiché io stesso mi sono trovato a farlo per il nostro direttore sportivo proprio pochi mesi fa e coinvolge abbiamo avuto l'iscrizione di più di 25 studenti e lì avremo insomma il piacere di ospitarli tutti presso la nostra sede alla fine di marzo e ascolteremo anche le presentazioni dei migliori elaborati oltre a questo non è semplicemente una gara a chi fa la migliore esercitazione anzi non è affatto una gara a chi fa la migliore esercitazione in realtà è per noi un importante momento di scouting cioè questi ragazzi hanno la possibilità di mettersi in mostra in una maniera ovviamente molto molto più estesa di quella che si fa in un normale colloquio o con il semplice invio di un cv il professor Maurino inoltre parlava di proattività sono assolutamente d'accordo e lui è il primo a essere in realtà molto proattivo poiché è la persona che letteralmente ci ha ci ha proposto di fare una cosa del genere noi l'abbiamo accolta super favorevolmente perché appunto siamo molto contenti all'idea di poter di poter conoscere dei ragazzi freschi vogliosi di entrare nel nostro settore e insomma che hanno la possibilità anche di portare qui delle idee da mettere in campo l'ultimo stagista che abbiamo accolto quest'anno ha avuto la possibilità anche di effettuare dopo solo tre mesi che era qui una presentazione a tutti i capi area dell'area sportiva qui nel centro di Appiano Gentile quindi sono anche un po' orgoglioso del fatto che anche delle persone che magari non hanno esperienza alcuna o comunque ne hanno pochissima qui hanno la possibilità di mettersi in mostra e di far subito vedere tutto ciò che sanno fare e prof magari a questo punto se vuole posso lasciare dello spazio per delle domande se ce ne sono va bene grazie domande curiosità eccone una ciao Giovanni volevo chiedere per quanto riguarda questa tua posizione che hai assunto adesso sei stato tu che hai contattato e ti sei applicato per una posizione all'Inter oppure ti hanno contattato loro perché gli serviva qualcuno in questa posizione grazie per la domanda è un mix delle due se devo dirti la verità io volevo tanto lavorare in un posto come questo come ti dicevo ho dedicato tutte e due le mie tesi al mondo dello sport in un caso erano gli scacchi in un caso era il calcio magari gli scacchi forse non per tutti sono considerati uno sport però credo che ufficialmente lo siano è successo che diverso tempo addietro ho cominciato a costruirmi una rete di conoscenze su linkedin è una cosa che io insomma invito sempre se possibile quindi di trovare i profili che vi interessano trovare le aziende che vi interessano e capire chi ci lavora in modo tale da rimanere in contatto ovviamente non perché gli dobbiate rompere le scatole ma perché il giorno in cui ci sarà un'offerta di lavoro voi sarete i primi a vederla se avete il contatto che l'ha pubblicata e nel mio caso è stato proprio così intera pubblicato un job posting classico quindi appunto un'offerta un annuncio su linkedin ma la mia fortuna è stata di essere collegato con le persone giuste e quindi di di averla vista immediatamente di non aver perso questa opportunità questo questo treno che evidentemente poi non sarebbe più ripassato perché io sono arrivato in quel momento con già cinque anni pieni di esperienza e invece in seguito le figure che abbiamo assunto hanno un'esperienza molto inferiore quindi per esempio se ci fosse arrivato l'anno scorso non ci sarebbe stato posto per me perché abbiamo assunto figure con diciamo di profilo più junior quindi sì devo dire che è stato un mix tra appunto mi sono fatto trovare mettiamola così mi sono fatto trovare per fare un confronto adesso non so nella mia posizione quanti sono stati ma lo scorso anno abbiamo abbiamo pubblicato un job posting per un junior data engineer peraltro un ragazzo che ha studiato proprio alla Bicocca e io ho dovuto scorrere più di 300 cb quindi diciamo che l'interesse c'è e appunto anche il fatto di farsi trovare pronti al momento giusto è importante perché il nostro job posting avendo ricevuto così tanti cb subito è stato attivo fondamentalmente credo per neanche una settimana per cui se per quella settimana non avevi guardato LinkedIn non avevi guardato i profili giusti probabilmente ti sei perso questo job posting quindi ovviamente appunto per il futuro molto 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 importante entrare in contatto restare diciamo restare sul pezzo su tutti gli ambiti che vi possono interessare altre domande mentre magari pensate una domanda c'è una cosa che ha detto Giovanni molto molto importante voi vivete nella situazione ancora per diversi anni in cui siete voi a scegliere dove andare a lavorare e non le aziende a scegliere voi questo gli HR delle aziende non credono la prima volta che parlo dico non è vero poi dopo un po' torno dico si ha ragioni tu perché il numero di offerte rispetto alle figure professionali richieste è decisamente più basso quindi quando uno studente mi chiede vorrei fare la tesi io gli chiedo ma a te che ti piace fare dove vuoi lavorare nelle consulting su un dominio particolare su un'industria particolare in una zona particolare adesso un tesista che per esempio è a Trento non si vuole spostare dalle sue zone benissimo parte lavorare da remoto può tranquillamente poi trovare lavoro però a Trento c'è un network di aziende non banali e questa è una cosa importante anche perché riuscite a mettere insieme magari le vostre passioni interessi non solo sportivi anche di attività una ragazza voleva trovare lavoro nell'ambito del terzo settore può sembrare strano ma abbiamo grazie ad alcuni colleghi di statistica abbiamo indirizzato verso aziende anzi in realtà cooperative di alto livello che si occupano di analisi di dati proprio su rispetto del terzo settore questa è una ricchezza che altri corsi laurea non sono sicuro che possono offrire proprio per l'inversione tra l'offerta e la domanda ci sono altre domande dubbi a me riguardo il corso specifico a Giovanni a per competenza di settimana scorsa si è laureato due settimane fa si è laureato un ragazzo che adesso è stato assunto diciamo dai cugini dei nostri ospiti stessa cosa giusto giusto tra l'altro ho visto il suo post su linkedin proprio qualche giorno fa diciamo che su linkedin non ci sono rivalità ecco mettiamola così ovviamente quindi quindi ci sono queste parole anzi devo dire che ho avuto grande piacere nel confrontarmi con persone che fanno il mio stesso mestiere in altre squadre quindi è bello vedere che è l'intero panorama calcistico italiano che sta avanzando tanto in questo ripeto prof lei lo sa bene il nostro lavoro ha dei risvolti che si possono toccare con mano quindi è semplice per noi se lavoriamo bene far capire quanto possiamo essere importanti quanto possiamo fondamentalmente far guadagnare no all'azienda per cui lavoriamo quale che essa sia e concordo anche sul tema che diceva appunto abbiamo ancora come data scientist la grande fortuna di essere noi a scegliere dove andare perché appunto c'è tantissima richiesta ce n'è sempre di più c'era una domanda da casa che era più probabilmente una curiosità di un esempio specifico magari anche molto concreto di un'applicazione di data science al contesto lavorativo specifico all'inter sì allora non posso purtroppo non posso diciamo dire cose poi ci dovresti uccidere però però magari un esempio un esempio lo posso fare la maniera in cui la squadra batte i calci d'angolo contro un avversario può essere praticamente modellata attraverso attraverso lo studio di determinati dati tecnici tattici posizionali quindi che cosa si fa in questo caso è un lavoro congiunto con il mister che se ne occupa il quale magari ha un'intuizione legata al fatto che lui ha guardato in video un campione di calci d'angolo che ha subito il nostro prossimo avversario e noi interveniamo in maniera importante perché appunto lui può guardare un campione noi invece possiamo guardare un set di dati molto molto più ampio e confermare o indirizzare quelle che sono le sue scelte e quindi poi alla fine andiamo a vedere proprio nel pratico il fatto che il calcio d'angolo venga abbattuto a uscire o a rientrare sulla base di alcune indicazioni che ci sono attraverso i dati è sempre un mix da noi appunto vige il paradigma del data informed e non del data driven nel senso che non abbiamo mai voluto sostituire l'umano con i dati ma l'abbiamo voluto integrare e quindi dargli modo di conoscere una cosa in più nel momento in cui deve prendere una decisione in questo caso la decisione è lo staff che indica ai nostri ragazzi se battere il calcio d'angolo in un modo oppure in un altro in una zona oppure in un'altra questa è una cosa invece aperta che ci disse il data scientist della Roma calcio che abbiamo invitato nel 2020 durante il covid tutt'altro genere la Roma doveva fare una tournée negli Stati Uniti e gli chiesero dove andiamo punto allora lui ha cominciato a guardare il traffico sul sito della Roma ha cominciato a cercare online se c'erano dei Roma fans club negli Stati Uniti ha cominciato a mettere insieme un po' i dati e ovviamente ha guardato anche eventuali altri fans club di altre squadre italiane negli Stati Uniti per suggerire alla Roma quali erano le città migliori dove andare a fare una tournée dimostrativa della Roma per poter avere un pubblico qui un uso diverso non sono tattiche sono dati più commerciali ma era un altro dei task classici diciamo di ascolto dei social network e di altre informazioni che poi devono essere pulite integrate stimate e messe insieme altre domande chi ha dato chi? qualcuno ha dato la mano? no? ok va bene allora intanto ringrazio Giovanni per il tempo a disposizione spero che questo sia piaciuto poi noi ci vediamo il 25 ringrazio anche tutti voi che avete voluto seguire il diciamo questa questa presentazione trovate poi i nostri riferimenti in indirizzo di posta elettronica orientamento punto da science a chiocciola disco unimi.it per contarci e a questo punto passere la parola al collega Vizzari per il corso di laurea magistrale in teoria di tecnologia della comunicazione grazie ancora arrivederci grazie mille e in bocca al lupo a tutti alzata di mano c'è qualcuno che è qui da stamattina alle nove e mezza ok premio resistenza fisica avrete un crollo degli zuccheri nel sangue vabbè insomma è abbastanza interessante vedere lo spaccato di una parte peraltro non la tutta l'offerta formativa del dipartimento di informatica perché poi partecipiamo ad alcuni dei corsi evocati di magistrale in AI oltre a quelli che vi sono stati presentati finora che sono prevalentemente incardinati sul dipartimento di informatica naturalmente siamo partiti dall'offerta più centrale di informatica la magistrale in informatica che naturalmente è di massimo interesse per i nostri studenti di triennale che almeno all'inizio erano la maggioranza ora studenti di triennale in informatica ne sono rimasti alcuni alcuni li riconosco alzate la mano ok vabbè qualcuno magari di un po' di tempo fa studenti di fuori Bicocca ok studenti di Bicocca area psicologica curioso che siate qua perché c'è un open day del dipartimento di psicologia c'è anche un pezzo su TTC ma va bene importante avere offerta poi e usarla bene possibilmente va bene il decalage è passato per data science che ha tanta partecipazione da altri dipartimenti ma che è comunque un corso incardinato su informatica TTC invece è l'unico che io sappia corso interdipartimentale ed è formalmente erogato dal dipartimento di informatica sistemistica e comunicazione e dal dipartimento di psicologia noi ogni anno scriviamo nei documenti formali sulla sostenibilità della didattica che metà del monteore ce lo mettiamo noi di informatica metà ce lo mette psicologia poi anche in questo caso c'è la partecipazione di docenti di altri dipartimenti e di professionisti esterni perché senza nessuna sudditanza culturale va detto che è importante rimanere in contatto con le aziende data science dice che è addirittura uno dei tre pilastri del corso di laurea noi facciamo meno facciamo sicuramente degli innesti ben progettati però abbiamo anche noi una partecipazione del mondo aziendale teoria e tecnologia della comunicazione quindi è letteralmente originato da un tentativo di mettere assieme tre aree di studio e applicazione naturalmente perché qui noi studiamo è un corso di laurea magistrale sono altri due anni passati in università a studiare o più naturalmente perché uno può dire lo faccio da studente lavoratore e ci mette più tempo ok uno deve volerlo fare non è banale anche perché magari alcuni di voi hanno già le competenze necessarie a spendersi sul mondo del lavoro quindi una domanda da fare a voi stessi è lo voglio fare e rispondetevi sul serio perché il tempo è vostro comunque noi qui siamo un gruppo abbastanza eteriogeneo abbiamo informatici abbiamo scienziati cognitivi e linguisti anche un tema che magari 5-10 anni fa la linguistica ma un po' chi se ne frega oggi c'è GPT sistemi a interfaccia con linguaggio naturale la linguistica torna ad essere molto importante ma lo era anche prima soprattutto per qualcuno magari che fa comunicazione crea contenuti deve anche scegliere bene le parole o le immagini e naturalmente l'area del design che è forse un pochettino più lato applicativo che non virgolette scientifico però naturalmente c'è anche questo carattere del corso di laurea è quindi fortemente interdisciplinare e prevede un tentativo non solo di presentare una cosa l'altra e sta a voi cercare di tirare il filo del discorso ma crescentemente cerchiamo di lavorare insieme anche in alcuni insegnamenti avere un docente di area informatica un docente di area psicologica e avere una valutazione integrata un progetto integrato si rivolge un po' a tutti in realtà soprattutto perché è un corso di laurea di definizione paradossalmente non proprio recentissima è molto moderno dal mio punto di vista e quando parlo con aziende questa è anche la loro sensazione però la definizione del corso di laurea oramai è ben consolidata ed è non molto selettivo all'ingresso ma questo non vuol dire che come qualcuno negli anni passati ah ma non mi stai motivando a iscrivermi non mi stai dicendo che vuoi me no no deve essere la persona che vuole iscriversi io non devo vendere scope ok io non voglio intortarvi voi dovete scegliere con calma scegliere bene perché dovete lavorare un altro paio d'anni e forse di più dovete prepararvi ai prossimi 40 45 e passa di vita lavorativa quindi io non vi devo intortare non vi devo dire quanto è buono il prosciutto ok vi devo dire naturalmente che esistono delle regole di accesso vi devo spiegare quali sono negli anni mi sono reso conto che devo dire qualcosa di più su come è fatto perché perché io pensavo e sbagliavo pensavo che le persone arrivassero con già un'idea di come è fatto il corso di laurea ok ho il materiale le registrazioni le troverete tutte online ok c'è un'area del sito Moodle chi è già in Bicocca sa qual è il sito e-learning ok è un sito brutto per chi si occupa di comunicazione mediata alla tecnologia è un sito brutto soprattutto se accedete da mobile ma siccome lo popoliamo noi è un sito ricco di contenuti laddove il sito vetrina dell'Ateneo è magari più bello però io per arrivare a caricare delle cose lì devo passare tra file inenarrabili ok quindi tenete conto che quel sito brutto per esempio ha questi contenuti ha i link ai singoli insegnamenti e i sillabi sillabus in plurale ovviamente io ho fatto il tornio ho fatto l'istituto tecnico latino qualcuno lo sa non io allora naturalmente non c'è tempo di mettersi qui a spendere un sacco di tempo perché questa sarebbe informazione non orientamento c'è differenza informarvi lo potete fare voi e secondo me ha senso che lo facciate maggiormente voi con calma naturalmente io qualche cosa ve la vado a raccontare dunque poi riprenderò questa cosa per dirvi delle cose ma qui vedete che ci sono degli insegnamenti obbligatori ok e delle scelte un obbligatorio alcune scelte altre scelte prova finale meno cfu di informatica ma non sono pochi ok 24 cfu un cfu cuba come diceva una collega un cfu diventa 25 ore della vostra vita ok quindi 24 cfu di tesi significa 600 ore è tanta roba può anche essere associato a uno stage che si può svolgere esternamente presso aziende rispetto al quale noi riconosciamo 4 cfu lo stage poi presso un'azienda può essere più lungo le aziende uno stage di 100 ore non sono tanto interessate 300 450 però si può mettere insieme soprattutto se uno fa un lavoro esterno interessante fa prima lo stage dopo 100 ore fa un riconoscimento e poi continua e sviluppa una tesi applicativa la natura di TTC è molto applicativa sebbene questo può sembrare abbastanza paradossale sebbene abbia insegnamenti tra i quali cognizione e linguaggio un corso di linguistica e cosa c'è di applicativo non poco soprattutto se fate non so copywriting definizione di contenuti se volete pubblicizzare un evento di questo tipo dovete scegliere bene termini le parole il tono c'è un corso di psicologia cognitiva per la comunicazione è un corso di psicologia cognitiva uno letteralmente perché uno può entrare in TTC da informatica e giuro che gli informatici non solo non hanno in piano di studi ma non scelgono un corso di psicologia e se vogliono fare TTC prima di poter fare degli studi utente studi sull'usabilità studi sulla preferibilità di un design oppure un altro devono avere delle basi metodologiche e anche statistiche perché la statistica della psicologia è un po' diversa della statistica che si fa in informatica e questo serve per fare ergonomia cognitiva che è un corso centrale non è intitolato UX ma è un corso abilitante lavori in quel settore ed è naturalmente obbligatorio quindi tutti i laureati TTC un po' di temi di usabilità un po' di temi di user experience lo fanno per definizione perché il corso obbligatorio del secondo semestre del primo anno fa quello e ha una modalità d'esame non a progetto ma la sconsiglio vivamente perché il bello di quell'insegnamento è vedere come impostare come svolgere un progetto legato a temi di user experience e sentirsi dire dal docente come sta andando se va bene se va corretto se è meglio fare diversamente ok e tanti altri insegnamenti hanno progetti tanti non tutti non tutti quindi il suddetto corso di base di psicologia cognitiva è un corso teorico metodologico si studia si leggono libri e si dà un esame tradizionale ok chi viene da psicologia non lo deve rifare perché ha già fatto tanto in area psicologica e c'è un corso a scelta aggiuntivo che si chiama psicofisica percezione oppure da quest'anno se la persona individua nell'offerta di psicologia un corso a livello magistrale di area psicologica che gli piace di più l'anno prossimo potrà presentare un piano di studi personalizzato e noi se è coerente lo accetteremo ok analogamente uno non viene da informatica c'è un corso di elementi di informatica che è un'informatica di base ok è un corso aperto naturalmente significa anche che noi dobbiamo far fronte all'eterogenea formazione di chi si scrive e poi c'è tutto un corpaccione comune a volte più verticalizzato a volte più anche come dire di scenario oggi pensate banalmente cosa significa il diritto dell'informazione la proprietà intellettuale la cyber security diritto noi ce l'abbiamo un corso di diritto dell'informatica e della comunicazione come obbligatorio è una scelta forte e secondo me è importante è giusto anche la data science c'è un corso legato a aspetti giuridici ok a informatica magistrale no uno lo può inserire nei corsi liberi la scelta però non è come dire nell'offerta tipica ok ora funziona questa cosa vado rapidamente perché la giornata è già stata lunga intanto diciamo noi siamo stati su un ottovolante sul numero delle iscrizioni che adesso è ritornato su valori di 7-8 anni fa ma abbiamo avuto un'esplosione c'è stato un anno che abbiamo avuto 170 persone iscritte 170 vabbè era l'anno in cui tutto era online per cui si iscriveva gente da Timbuktu non veniva non faceva un giorno di presenza e vabbè quell'anno c'è anche stato il picco degli abbandoni va detto inevitabilmente poi qualcuno si rende conto che non ce la fa detto questo onestamente noi siamo abbastanza contenti con numeri più contenuti perché riusciamo a guardare in faccia le persone e capire chi sono quando sono 170 io faccio un esame a gruppi quell'anno lì ho avuto 35 gruppi che facevano il progetto come faccio a ricordarmi qualcosa di ognuno i numeri contano a volte è meglio che siano big small data a volte tante persone da fuori provincia e anche da fuori regione perché comunque è un corso particolare non ce ne sono tanti in giro lasciate perdere un attimo questo funziona fuori tendenzialmente i dati che abbiamo dicono di sì dicono di sì dicono che il tasso di occupazione è diciamo qualcosa che possiamo dire occupazione piena tecnicamente è un termine tecnico c'è una buona soddisfazione per il lavoro svolto 7,5 in scala 10 quindi tendenzialmente le persone poi sono contente reperiscono lavoro tipicamente dopo due mesi rotti dall'inizio della ricerca tante persone iniziano a lavorare durante un po' perché Milano costa credo che non debba commentarlo un po' perché fa piacere un po' perché magari si inizia con la tesi o con lo stage e quindi l'adeguatezza della formazione da noi fornita è valutata molto adeguata dal 60 e rotti per cento delle persone che si laureano quindi tendenzialmente è un corso che come tutti i corsi di laurea ha delle cose che vanno bene delle cose che vanno meno bene ma nel complesso una volta laureati viene apprezzato ok va detto che è un corso che è abbastanza impegnativo per cui la maggioranza i due terzi dei laureati dice che ha seguito più del 75 per cento delle elezioni hai scoperto l'acqua calda se riesci a dedicare tempo alle cose ti riesce meglio ho capito rispetto a alcune domande precedenti ci sono delle persone come il Michele Zonca che non solo lavorava 30 e rotte ore a settimana ma poi c'è un tema di produttività perché se io su certi temi il Michele Zonca in un'ora fa delle cose che io faccio in un mese ok cioè c'è anche questo da valutare e ognuno conosce se stesso statisticamente però le persone sono un po' più medie e hanno bisogno su tanti di questi insegnamenti di dedicarsi ok per esempio il progetto che dicevo prima di ergonomia cognitiva se altri corsi uno li può seguire da remoto leggere il libro quel corso lì è molto sul fare sull'imparare a fare bisogna seguire il docente funziona molto meglio se si è a distanza di due passi poter alzare la mano guardarsi in faccia ok altre cose no funzionano diversamente noi comunque sconsigliamo l'iscrizione a tempo pieno scusate l'iscrizione di lavoratori a tempo pieno se poi in quel caso ragioniamo su delle alternative cosa si va a fare tante cose diverse alcune molto lontane alcune molto lontane lo specialista di comunicazione mediata da tecnologie è una figura un pochettino più vicino all'umanistico che non al tecnico ma uno può anche andare a fare non solo la user experience ma fare l'implementazione dei sistemi interattivi ok quindi fare front end development è molto diverso molto diverso quello che si va a fare è tremendamente diverso tipicamente sono lavori che funzionano piuttosto bene nella grande azienda perché può funzionare meglio se c'è la possibilità di avere ruoli ben definiti uno fa il design poi c'è un gruppo con il quale si collabora che fa più lo sviluppo ok però figure specifiche lavorate in TTC sono state in grado di fare buone carriere anche in aziende medio piccole abbiamo una buona rete di ex studenti stiamo collaborando anche con Bicocca alumni ci manteniamo in contatto questo aiuta lo svolgimento di stage anche in qualche caso lo svolgimento di tesi all'estero ecco cose che ho già detto è un corso molto laboratoriale molti insegnamenti hanno forme non standard progetti di gruppo a volte svolti durante l'insegnamento ok ragione per cui se si riesce a frequentare si funziona meglio molto personalizzabile attenzione è un corso che per la struttura che avete visto prima tende a diciamo spostarvi dalla formazione triennale naturalmente se uno viene da informatica deve fare delle cose di area psicologica deve fare delle cose che riguardano anche aspetti di design delle interfacce che magari non sono tipicamente nella primaria attenzione degli informatici e se uno viene nella psicologia deve almeno capire cosa significa programmare puoi dire non lo farò più per il resto della vita ma un esame nel quale fa quella roba lì lo fa ok se questo non piace spiace come si dice l'offerta formativa degli atenei è ampia è meglio se cercate altrove ok qui l'idea è che vi dovete spostare dalla vostra area di comfort quantomeno un pochino e naturalmente c'è modo di fare leva su diciamo i punti di forza che già si hanno nel proprio profilo poi vabbè appunto qui tirando un po' grossi confini tra insegnamenti appunto ci sono parti legate alle scienze cognitive e psicolinguistiche comunicazione linguistica percezione psicofisica ergonomia cognitiva alcuni insegnamenti di psicologia sociale comunicazione mediata dal computer mediata dalle tecnologie web soprattutto social media sistemi orientati alla collaborazione nelle organizzazioni e nelle aziende qualche corso ma non obbligatorio qualche corso nell'area marketing non è un corso di marketing è un corso che può essere utile a chi vuole lavorare nel marketing e naturalmente aspetti giuridici design comunicazione visiva design delle interfacce è un corso obbligatorio del secondo anno ampliamo l'offerta con un corso di visual design che prevalentemente è orientato al digitale ma avrà anche degli aspetti più metodologici la missione al corso due canali anticamente è stato detto che il corso è particolarmente orientato ad alcune classi di laurea scienze della comunicazione scienze tecniche psicologiche informatica ingegneria dell'informazione disegno industriale da queste classi di laurea bastano 12 CFU in una serie di settori che prevedono l'informatica l'ingegneria informatica la psicologia e il disegno ok quali psicologie perché ci sono tanti settori della psicologia psicologia generale e psicologia sociale attenzione 12 CFU è capitato capita abbastanza di frequente che si iscrivano provino a iscriversi si iscrivano per una valutazione per un colloquio di ammissione persone non lo so dalle accademie delle belle arti si può fare come diceva qualcuno in Frankenstein Junior però servono 16 CFU perché tendenzialmente sono classi di laurea lontane un po' più lontane da quelle che ci aspettiamo ok poi in quel caso diciamo sta a me valutare i profili di ingresso dalle persone che provengono da questi corsi di laurea attenzione qual è il messaggio facilitato venite da psicologia avete uno ziliardo di crediti in area psicologica siete sicuramente ammessi venite da informatica avete uno ziliardo di CFU in area informatica siete sicuramente ammessi venite da corsi di classi di laurea diversi da quello che ho detto guardate il vostro piano di studi ok venite da una scienza della comunicazione guardate il piano di studi perché la classe di laurea della scienza della comunicazione è molto ampia ci sono lauree triennali in comunicazione sotto scienze politiche filosofia marketing sono molto diversi quindi se venite da un L20 guardate il vostro piano di studi ora siamo a marzo significa che è difficile cambiare il piano di studi in tempo per iscriversi quest'anno però sono appena aperte credo le iscrizioni a esami singoli a insegnamenti singoli se vi manca qualcosa guardate perché potreste farcela in tempo non ce la fate in tempo sappiate che è possibile iscriversi a corsi singoli ok soprattutto mettete caso uno si laurea in dicembre o che guaio mi laureo in febbraio è tardi non abbiamo un'iscrizione a metà anno beh uno può fare a corso singolo qualche insegnamento e iscriversi l'anno dopo ok che altro lasciatemi dire di anno in anno il corso di laurea cambia perché noi tutti tutti i presidenti di CCD sono letteralmente obbligati a guardare come stanno andando le cose dal processo e per esempio e anche ascoltare gli studenti i rappresentanti degli studenti vedere come vanno le cose noi abbiamo aperto un nuovo insegnamento di visual design al primo anno molto richiesto dagli studenti un'opportunità segnalata dai docenti e anche dettata dalla dinamica delle iscrizioni che si è un po' calmata non siamo arrivati a 300 ma siamo ritornati sotto i 100 abbiamo un nuovo insegnamento di area di linguistica quindi con un corso di linguaggio e comunicazione che sarà nel regolamento non sarà erogato l'anno prossimo ma sarà erogato fra due al secondo anno per chi si iscrive l'anno prossimo quindi è parte dell'offerta e poi stiamo pulendo le mutuazioni perché naturalmente noi offriamo tanti insegnamenti di altri corsi di laurea alcuni insegnamenti sono in comune per esempio con Data Science c'è un corso di Data Visualization e proprio lì dentro la classe prevede la presenza di Data Scientist e di persone iscritte a TTC quindi diciamo c'è anche la possibilità di avere collaborazioni tra studenti di diversi corsi di laurea anche il corso di realtà virtuale aumentata è offerto qui a TTC ed è invece mutuato da magistrale a informatica quindi anche in quel caso c'è la possibilità di fare gruppi di lavoro eterogenei nei quali fondamentalmente mettere a frutto e mettere alla prova quelle forme di collaborazione alle quali si faceva accenno precedentemente come avviene diciamo come avviene tecnicamente l'ingresso nel corso di laurea tanto voi siete qui vi state informando ci pensate bene avete tempo ancora le iscrizioni non sono aperte dopodiché potete fare domanda di iscrizione l'iscrizione non avviene istantaneamente c'è un colloquio non c'è modo di evitarlo ma non tanto perché vi dobbiamo valutare ma vi dobbiamo orientare come avete visto ci sono delle cose a scelta già al primo anno in realtà già al primo semestre del primo anno quindi questo colloquio è importante non è valutativo ripeto è orientativo e serve a noi a capire chi siete voi e a voi a capire dove andare il primo giorno delle lezioni quali corsi seguire ok ecco in quel frangente noi parliamo dell'inizio del corso e rispondiamo a domande che naturalmente voi potete farmi anche ora ma soprattutto riguarda l'inizio la decisione se iscrivervi o meno e cosa fare all'inizio poi noi facciamo lungo tutto il percorso del corso di laurea dei momenti di orientamento in itinere nei quali raccontiamo i corsi a scelta man mano perché sono tanti i corsi a scelta ricordate quella slide della professoressa Arceli che c'era uno ziliardo di corsi a scelta ecco se uno li presenta tutti assieme non è efficace ok quindi noi segmentiamo prima vi presentiamo l'offerta del primo anno a scelta e a marzo questo lo facciamo a novembre del primo anno e a marzo del primo anno vi presentiamo il secondo anno quindi cerchiamo di accompagnarvi nella definizione del vostro piano e in settembre facciamo dei seminari introduttivi gratuiti naturalmente come dei precorsi naturalmente soprattutto per chi proviene a una formazione un po' polarizzata e per esempio non sa nulla di psicologia o non sa nulla di informatica quindi organizziamo dei precorsi che offriamo naturalmente a chi si iscrive a TTC anche per conoscere un po' l'ambiente perché come avete visto in una percentuale molto alta l'anno scorso addirittura l'85% degli iscritti veniva da fuori bicocca direi che io quello che dovevo dirvi vi ho detto ho una serie di slide di backup che vi propino a seconda delle domande che mi fate ho anche un po' di registrazioni di ex studenti che vi raccontano cosa sono andati a fare dopo TTC però adesso lascerei spazi a domande ho visto che lei specifica che non consiglia questo corso ai lavoratori però lei cioè nel mio caso io lavoro part time quindi sono 24 ore settimanali ma è semplicemente aggiungo una cosa c'è c'è un particolare svantaggio nel magari seguire particolari insegnamenti diciamo per conto proprio allora intanto appunto sconsiglio i lavoratori a tempo pieno quindi già lei è una categoria lì ovviamente diversa primo secondo io lo sconsiglio ma nel tempo è successo che si sia iscritta una persona che lavorava in un ASL gli abbiamo detto te lo sconsigliamo per due motivi uno ci metti di più due ti perdi parliamo cianciamo di esperienza utente ma noi in fin dei conti cerchiamo di offrire un'esperienza se lei non la può fruire si perde qualcosa inevitabilmente questa persona si è laureato in quattro anni è anche rimasto contento tutto sommato l'ha fatto era una persona non proprio giovanissima tra l'altro era un po' più vecchio di me quindi una persona che aveva anche oramai una certa esperienza nella gestione del tempo e ce l'ha fatta si è perso sicuramente qualche cosa alcuni insegnamenti come si menzionava prima un lavoratore dipendente può formalmente chiedere dei permessi per il diritto allo studio veniva li seguiva a me piace molto il corso di diritto i docenti i colleghi di giurisprudenza ci mandano sempre delle persone veramente in gamba tra l'altro appunto il gruppo dei giuristi di Bicocca ha tirato fuori la cartabia persone che vanno in corte costituzionale non è che siano esattamente diciamo da sottovalutare è un gruppo molto importante nazionalmente e oltre e poi ecco sono persone anche veramente di valore però inevitabilmente è una disciplina rispetto alla quale i libri di testo sono presenti sono relativamente facili da fare è ben più difficile fare libri di testo su discipline che cambiano di continuo non solo è difficile fare dei libri di testo per persone che siano caratterizzate da un profilo un po' cross ok quindi diciamo non il libro di testo per quello che ha fatto sicurezza informatica tutta la vita ok quindi ecco il percorso per una persona che lavora conviene parlarsi prima conviene fidarsi in fin dei conti ragazzi iscrivervi a un corso di laurea è un'apertura di credito non datela in bianco però una volta data usate il corso di laurea usate i presidenti di ccd le segreterie usate tutte le risorse che vi mettiamo a disposizione ok non solo quelle facili parliamo un sacco di esperienza utente usabilità interfacce però a tanta parte del mondo le organizzazioni più grosse sono più hanno difficoltà a cambiare rapidamente a essere accattivanti Moodle è brutto se lo consultate da mobile fa pietà ho capito quello ci abbiamo noi cerchiamo di fare il meglio che possiamo e diciamo lo cerchiamo di usare al meglio quando vi scrivete a un corso di laurea quale esso sia fate un'apertura di credito il suggerimento è fate veramente un commitment cercate di entrarci dentro con le modalità scritte e non scritte se uno fa questo ce la fa e con profitto anche ok statisticamente poi ecco come diceva prima tutto il blocco precedente i dati ti dicono delle cose io dico uno deve conoscere se stesso è capire se Michele zonca e se lavora 30 e passa ore settimanali finisce alle 4 una cosa torna e fa altre 4 ore o se uno non ce la fa è del tutto legittimo e questo purtroppo però non lo so io sapete voi prego sì salve io volevo chiedere un paio di cose prima come mi piace rimarcare ai suoi studenti e noi che non veniamo da Bicocca veniamo da tipo taglio e cucito come mi piace dire a loro comunicazione no quanto calma non voglio sminuire non voglio sminuire anzi no il suggerimento è capita ai colloqui di ammissione di sentire qualcuno che lo fa lei adesso lo ha fatto con spirito eccetera e va bene però non non fatelo troppo perché a quel punto rischiate di sminuire voi stessi ok quindi come battuta ci sta però ecco tenetevela adesso appunto io ho cercato di dare un'area un'aura un po' informale che mi piace però occhio eh non fatelo sempre ok ripeto brevemente la domanda per chi è da casa la domanda è io vengo da un fuori ateneo e anche e comunque da una classe L20 che sono queste lauree in scienze della comunicazione sono lauree molto interessanti tipicamente molto in ampiezza e non tanto in profondità ecco e la domanda è devo fare qualcosa devo riorientarmi allora il mio suggerimento è guardate se avete i requisiti se li avete finite bene quello che state facendo cercate di finirlo in fretta in modo tale da poter iniziare con buona lena il più presto possibile se siete ancora con parecchi esami da dare e ok non è il caso perfetto ma capita a me è capitato di fare un colloquio di ammissione a metà settembre la persona doveva fare ancora tre esami e la tesi e previsione per la laurea a dicembre se tutto va bene e ho detto guardi secondo me non le conviene iscriversi ma perché perché il primo semestre è importante soprattutto poi la persona veniva anche da una scienza della comunicazione ma l'avrei detto a chiunque lei si perde tutto il primo semestre una laurea magistrale sono quattro semestre si perde il 25% del corso e si iscrive abbia pazienza io le suggerirei di non farlo si iscrive a corso singolo a qualcosa del secondo semestre finisce bene quello che sta facendo e si iscrive l'anno dopo la persona non ha seguito il mio consiglio o meglio a voce era un colloquio in call a voce mi ha detto va bene guardi ho capito poi mi iscrive nel pomeriggio guardi ho parlato con i miei genitori ho pensato che mi iscrivo e io le ho detto guardi è nella sua facoltà constato di aver perso un'ora a parlare con lei ma veramente buttata la persona si è laureata in tre anni e mezzo perché si è iscritto al secondo semestre le cose del primo le ha dovute recuperare allora ognuno è diverso però ha certe regolarità se si sono forse qualcosa vogliono dire voglio dire e ripeto se è un grosso se se uno sceglie di iscriversi a un corso di laurea lo faccia in fiducia si fidi ascolti è paradossale ma oggi di ascolto non ce n'è tanto noi proviamo ad ascoltare è importante che la cosa sia reciproca le pubblico adesso poi vi faccio vedere vi faccio vedere in live allora saranno pubblicate le slide credo di tutti perché è vantaggio di tutti farlo l'evento è registrato ok quindi poi a distanza di tempo potete venire da me e dire ma tu avevi detto questa cosa qua invece spero che non ci siano difformità sì è importante chiedetelo perché appunto io ora è un buon momento per chiedere delle cose che sulle slide non ci sono e poi con calma andarvele a vedere andare ad approfondire quindi la domanda è più che legittima butto un occhio perché c'è no non ci sono domande ok perfetto io volevo fare due domande sì una è nel mio caso vengo da una laurea in scienza della comunicazione purtroppo mi manca un CFU per avere i requisiti i 12 è il momento che non potrò iscrivermi quest'anno non lo dia per perso in che senso non lo dia per perso ci sono c'è la possibilità di iscriversi a corsi singoli non so se sono ancora aperte le iscrizioni per i corsi singoli butti un occhio tenga d'occhio perché se lei è a posto con i tempi noti come diceva prima il professor Maurino ma mica sono qua qualunque università riconosciuta dal ministero accreditata può rilasciare CFU che noi possiamo storcere il naso perché magari un corso fatto non lo so il grande classico è teoria e tecnica dei nuovi media o cose del genere che magari poi se noi guardiamo il syllabus non è esattamente non lo so sistemi operativi per gli informatici no? non è la stessa cosa però io mai e poi mai posso arrogarmi dei diritti di non riconoscere delle cose quindi non lo dia per perso ok eventualmente ci possiamo sentire a parte va bene la ringrazio e volevo chiedere se appunto in questo caso consigliava oltre che a fare l'esame integrativo magari non riuscendo nell'eventualità a iscrivermi per avere di fare appunto degli esami del corso se poi potevano essere convalidati al momento dell'immatricolazione questo è un grande classico e tenete conto che può essere utile anche in caso di io ho scelto il corso di laurea in studio comparato degli insaccati della Lombardia non fa per me voglio passare a diciamo altro ok ho fatto degli esami li saluto sono persi no soprattutto se il voto è buono e uno cambia si iscrive da un'altra parte può chiedere il riconoscimento di carriera pregressa quando vi iscrivete a una magistrale tutto quello che vi è servito per laurearvi in triennale non può essere utilizzato ma tutto quello che fate dopo anticipa quello che potete farvi riconoscere in una laurea magistrale quindi se lei per qualunque motivo non dovesse davvero riuscire a iscriversi le conviene anche in questo caso prenda contatto può selezionare a corso singolo fino a 30 CFU che è mezzo anno praticamente ok e magari nel frattempo fa un lavoro a part time metta da parte qualche lire eventualmente ok e la seconda nota poi appena appena iscritta una quota a parte di quei CFU le servirà per essere ammesse un'altra quota a parte potrebbe essere di insegnamenti del corso di laurea ok grazie mille la seconda domanda invece era se poi dopo eventualmente il percorso di laurea magistrale questa laurea magistrale mi dà modo di costruire di più dal punto di vista informatico cioè mi dà delle basi si se poi posso costruirci qualcosa facendo io dei corsi alti fuori professionali magari allora io le slide di backup alle quali facevo riferimento ne tiro fuori una perché perché nel tempo qualcuno mi ha chiesto ma io vorrei fare questo cosa offre il corso di laurea per questo ecco io vorrei fare lo sviluppatore di front end una quota a parte piccola dei laureati in TTC fa questo perché nel settore professionale nell'area web tendenzialmente ci sono delle web agency che fanno il design tendenzialmente si vive e si muore in figma più o meno ok magari si fanno degli studi utenti si fanno delle comparazioni tra design diversi si fanno dei test misurati o si erogano poi dei questionari a un certo punto il design viene scelto va implementato ecco alcuni si fermano lì alcune web agency si fermano lì il lavoro va a qualcun altro però perché se quel sito va implementato qualcuno giuro lo deve fare quell'altro lavoro ecco potreste essere sempre voi soprattutto se vi volete porre come freelance per esempio se volete fare una cosa di questo tipo naturalmente se non avete basi informatiche dovete fare elementi di informatica che dà un po' la base di programmazione poi al secondo anno c'è un insegnamento che parla di javascript parla di come usare un framework per ora stiamo usando react credo che manteremo react aziendalmente alcune persone che hanno fatto tesi presso una delle aziende che ha parlato prima inspiring lì hanno usato angular il punto è imparare e imparare le problematiche sottostanti poi domani esce come diceva Antoniotti lo scripting language du jour Giulia adesso per dire tornando a certi temi non è più javascript io dovrò usare Giulia l'assetto tecnologico che abbiamo davanti risulta da un complesso processo sociotecnico il web tecnicamente fa schifo javascript è un linguaggio odioso io a sistemi distribuiti facevo vedere il bimbo che piangeva all'epoca quando parlavo di javascript e lo faccio vedere tuttora lì ad applicazioni web ma quello ci abbiamo funziona vogliamo lavorare oggi cambieremo il mondo magari ma intanto se io oggi devo lavorare devo mangiare devo sapere usare quello c'è modo qui lei ha corsia scelta più altro se lei le piace può prendere da magistrale informatica se vuole buongiorno io vorrei parlare di due tematiche allora la prima è il piano di studi anche io vengo da scienza della comunicazione all'insubre a Varese e mi sono appunto informata un po' prima e sono riuscita a farmi mettere nel piano di studi un esame dell'università di informatica della laurea di informatica quindi i requisiti dovrei averceli a chiusura appunto piano carriera prima di laurearmi penso a ottobre la seconda tematica invece è che io lavoro lavoro presso un'azienda a tempo pieno ma a ciclo continuo faccio tre giorni di lavoro e due riposo quindi in questa modalità riesco anche a essere presente nel caso potrei chiedere dei permessi studio che essendo appunto assunta posso richiedere come dicevo qui appunto alcuni corsi conviene esserci alcuni corsi insomma uno riesce esatto poi lavorando su turni su tre turni riesco magari se è il pomeriggio non devo chiedere niente se faccio la notte nel senso lei lo consiglia ugualmente allora lei deve deve valutare lei già lavorava mentre stava facendo la triennale quindi lei ha uno storico deve deve testare quello l'unica cosa deve sapere che alcuni di questi insegnamenti hanno dei progetti alcuni di gruppo e lavorare in gruppo pone delle difficoltà ma è un tipo di difficoltà che non dovete rifuggere dovete cercare perché fuori da qui quando è che lavorate da soli lei lavora da sola no però anche all'insubria facciamo dei progetti tant'è che io sono sempre presente quando non riesco ad essere presente facciamo magari le call su Teams se concludiamo i progetti questo appunto il suo storico naturalmente lo usi come criterio di scelta io le posso dire una cosa importante è la comunicazione ma tutta tutta è nelle forme anche legate alla scelta dell'interlocutore e nell'evento parallelo a questo a psicologia il format scusate termine inglese ma è proprio un termine tecnico in questo caso prevedeva l'intervento di studenti in corso e di ex studenti ex studenti abbiamo delle registrazioni che poi se riusciamo ve le faccio avere perché il tempo è meglio usare il tempo che abbiamo per domande più pregnanti si stava mettendo d'accordo la persona che faceva questo open day con gli studenti in corso e io dicevo ma ne fate sapere qualcosa perché no ci siamo sentiti a posto ieri a metà pomeriggio mi telefona la collega mi dice ma questi io stamattina mi ha detto che vi eravate sentiti ragazzi il misunderstanding ancora è pazzesco all'inizio all'inizio degli insegnamenti se decide di iscriversi il primo giorno dell'insegnamento suggerimento o il secondo più tardi nella pausa o appena finita la lezione va dal docente e gli dice sono X ho una situazione lavorativa di questo tipo mi dà dei consigli su come approcciare il corso eccetera anche perché se durante i colloqui si già lì sarà però noi lì vi diremo delle cose specifiche ma una delle cose che ripeteremo è questa perché poi il presidente la commissione che ammette sono tre persone ma i corsi sono tanti sono tanti e hanno modi diversi perché come diceva giustamente il professor Maurino c'è chi registra le lezioni chi non lo fa sapete che il mondo è veramente complicato perché ha senso fare un corso di diritto dell'informatica e della comunicazione è capitato letteralmente a dei colleghi di psicologia e il decano di TTC di qualche tempo fa si è ritrovato delle registrazioni del suo corso fatto qua in Bicocca sul corso di online di un altro Ateneo a pagamento cioè questi veramente sfruttavano il lavoro fatto da lui qui pagato da Bicocca per un corso a pagamento da un'altra parte del mondo è molto complicato poi far fronte a queste situazioni ok e quindi può starci che un collega legittimamente dica a me questa cosa non sta bene quindi se non sono obbligato io non registro le lezioni e non le metto in condivisione è capitato anche che delle slide di una nostra collega con degli esempi di immagini che contenevano la collega e i suoi familiari siano stati utilizzati da uno studente che faceva le sbobinature ma teneva anche le slide ed erano caricati su un sito dal modello di business po' discutibile che faceva firmare una manleva uno scarico di responsabilità a chi carica i contenuti diceva noi non abbiamo nessuna responsabilità a chi carica i contenuti è responsabile questa persona aveva caricato tutte le slide le sbobinature con immagini personali della collega e della sua famiglia accessibili su scuola.net lo scenario è complicato quindi la cosa importante è su numeri umani avere rapporti umani questo è anche una soft skill importante per intenderci ce la può fare sì grazie sono state situazioni anche peggiori una buona anche organizzazione del lavoro voi avrete a disposizione sei appelli d'esame l'anno non mi è ancora chiaro dove li collocheremo nel tempo ad oggi sono due nella sessione invernale tre nella sessione estiva a spanne giugno luglio settembre agosto grazie al cielo no da qualche parte in gennaio da qualche parte in febbraio il sesto vedremo non lo so non è una scelta nostra giuro non l'abbiamo scelto noi anzi onestamente noi eravamo un po' contrari perché è chiaro che può essere comodo fare l'esame quando uno vuole però non è un buon modo di suggerire guarda che nella vita ti devi organizzare secondo me è diseducativo ma questo è un altro discorso è anche inefficiente le esperienze portano dall'online ci chiedono i corsi dell'altrenale di SPC consentono agevolmente l'accesso a TTC o sono necessarie integrazioni in altri settori scientifico disciplinari no sono SPC che è scienze psicosociali della comunicazione per chi non frequenta Bicocca è il corso di cui TTC è lo sviluppo più più ovvio per intenderci il corso di psicologia cognitiva per la comunicazione da noi offerto non è il corso del primo anno di quel corso di laurea ma è uguale tecnicamente da una magistrale non si può offrire un corso di triennale per cui lo abbiamo dovuto replicare a livello magistrale poi ci sono alcuni corsi a scelta di scienze psicosociali per la comunicazione per esempio su temi di visual design che sono già molto vicini molto orientati qualche tempo fa un docente di SPC era il nostro apripista perché orientava molto le persone poi a iscriversi a TTC adesso offre è una delle persone coinvolte in questo corso da 12 CFU e fa principi di psicologia sociale per il web è il professor Gabbiadini che forse lei conosce però per intenderci perché dico cose sulla classe L20 in Bicocca c'è un corso di comunicazione interculturale che è di classe L20 eccolo lì Bicocca ecco ogni anno c'è un qualche numero di persone che viene da comunicazione interculturale ce la si può fare è un po' diverso perché comunicazione interculturale ha fatto tante lingue per esempio magari lei ha almeno due corsi di lingua io ne ho fatto due corsi di lingua ok è vero la persona ha fatto due corsi di cinese uno di giapponese per chi ci sente da casa è totalmente legittimo lei può pensare di specializzarsi in qualche modo e poi rigiocare la sua professionalità sul mercato cinese per esempio why not un'altra domanda più che altro come corso alla fine dei due anni lascia delle conoscenze delle competenze che sono tra virgolette complete certo poi si può sempre approfondire o è diciamo più un'introduzione essendo così variegato come offerta dipende moltissimo da come uno lo taglia ok dipende moltissimo da come uno lo taglia naturalmente cioè uno deve scegliere bene per intenderci poi diciamo una verità inconvenient no in aula ci vanno i docenti ci può essere un fantastico insegnamento di scienze comparate degli insaccati della Lombardia tenuto da un docente che non lo so non funziona bene ok il corso tecnicamente è bellissimo sulla carta e poi non lo so non funziona quell'anno non funziona ok uno deve scegliere bene le materie deve mettere anche in conto che ci sono le persone ok una cosa che non si fa più non lo trovo io fa se vi scriverete i colloqui di ammissione vi somministreremo un questionario per capire come avete scelto se eravate all'open day se non eravate all'open day data science ci insegna che fare orientamento dovremmo cercare di capire se lo stiamo facendo bene e qua è il modo migliore che chiedere a chi si scrive ok ora in qualche modo quanto si funziona bene in termini di uscita dipende molto da come ci si è orientati già prima esempio che non riguarda TTC da noi in dipartimento c'è un collega che storicamente stacca stacca contratti importanti con aziende come Canon Huawei e fa elaborazione delle immagini con tecniche tipicamente un pochettino all'avanguardia rispetto a quello che poi la tecnologia dirà sei mesi un anno due anni dopo ok se io ho già idea che voglio andare a occuparmi di immagine visuale ma magari scelgo Bicocca e non scelgo Statale se voglio occuparmi di applicazioni alla musica magari scelgo Statale e non scelgo Bicocca ok cioè bisognerebbe voi naturalmente siete qui stiamo parlando di un corso di laurea perché no guardate un po' chi ci lavora cosa fa che progetti ha ok e magari vinciamo noi magari vince qualcun altro naturalmente insomma ok quindi in qualche modo è veramente importante a parte il corso di laurea e come lo si spende e soprattutto se sommate i CFU restano fuori questi 24 più 4 o a informatica sono 33 più qualcosa è tanta roba la tesi la tesi è la fonte di specializzazione per eccellenza qualunque sia la sua scelta è la sua scelta fa la faccia sua naturalmente ok abbiamo sforato lo sapevo ma nemmeno tanto ripeto io ho un sito ho una registrazione di nostri ex studenti la condivido adesso vi faccio vedere dove la troverete ok questo vale per tutti i corsi di laurea e learning.unimi.it adesso lo state vedendo su un browser desktop qui ci sono le aree didattiche di Bicocca tutto quello che avete visto stamattina sta sotto scienze TTC lo trovate anche sotto psicologia ma poi il percorso vi porta sempre allo stesso punto grazie al cielo perché se no dovremmo fare aggiornamento di due aree date sotto scienze qui vedete in inglese perché perché il mio sistema operativo è messo in lingua inglese il browser legge dal sistema operativo le informazioni di locale e dice allora ti presento la versione inglese dettagli però sono dettagli importanti se uno va a fare comunicazione mediata da tecnologie ok e questo genere di dettaglio lo dovete voler acquisire se entrate a TTC al di là del fatto che poi magari del browser non ve ne frega un beato nulla però dovete sapere cos'è che informazioni ricava e fornisce senza dirvi neanche beh a terze parti problematiche di privacy eccetera comunque trovate data science piccolo dettaglio guardate FDS perché è cambiato l'ordinamento mannaggia la pupazza quindi cercate FDS ok non F91 informatica F18 teorie tecnologie della comunicazione non vi sbagliate è l'ultimo ok eccolo qua Corsi tuturato del primo anno un'iniziativa che speriamo di ripetere c'è una persona che riceve un po' di soldini per dare una mano alle matricole informazioni generali orientamento in ingresso ecco perché conoscere il dettaglio della lingua perché qui vi trovate con uno strano ircrocervo con un pezzo in inglese e un pezzo in italiano naturalmente se voi avete un locale in italiano è tutto in italiano va bene orientamento in ingresso che cambierà qui trovate open day dell'anno scorso slide dell'open day link alla registrazione del anche su youtube va bene è doppio ah no scusate l'anno scorso abbiamo fatto due momenti di open day uno solo online e uno in presenza quindi tutti e due ok va bene qui alla fine di questo c'era la presentazione dei testimonial che qui adesso non ho il tempo di farvi vedere qui vedete lo scenario era il medesimo e qui c'erano i nostri testimonial ex studenti tutti che lavorano all'estero non è che si lavora solo all'estero ok però diciamo giusto per dire che si lavora anche all'estero e anche in posizioni divertenti perché giusto per fare un cliffhanger prima di chiudere questa persona qui per esempio è interessante è dentro youtube ma non nel senso che il video è dentro youtube è che lui lavora a Zurigo nel team di youtube essendosi lavorato in TTC fa i protocolli no fa la user experience ok fa anche i protocolli la compressione le piattaforme cloud ok per certi versi è più importante come si fa qualcosa che non quello che si fa ok perché se uno fa bene quella cosa lì va lontano grazie della resistenza e buon appetito